buonasera ragazzi buonasera allora ciao a tutti ho fatto tutto un po di corsa quindi gli ultimi dettagli li vediamo un attimo insieme allora tupac ecco grazie mille per l'abbonamento prime me lo avevi promesso sei un uomo di parola grazie grazie davvero di cuore tra l'altro oggi dovrebbero essere già disponibili almeno una sicuro delle nuove emoticon di neve che abbiamo preparato guardate che meraviglia l'altra me la devono ancora provare c'è il what the fuck e c'è il please allora vediamo intanto se funziona tutto voi sì mi vedete tutto regolare grazie wistonblue89 per l'abbonamento grazie di cuore adesso switchiamo di scena e introduciamo il nostro ospite anche se non ha bisogno di presentazioni che ormai lo conoscete tutti eccoci qui 3 2 1 via il buon doc ciao doc buonasera buonasera ciao a tutti ok dovreste vederlo tutti e fatemi sapere anche come sono i volumi che ovviamente non saranno non saranno uguali ma dovreste sentirci comunque entrambi bene fateci sapere tanto io mi sposto un pochino in qua ok ciao ragazzi siete già tantissimi grazie doc un po basso allora vediamo se riesco ad alzarvelo ancora un pochino allora datemi un attimo al solito ragazzi solito disclaimer che facciamo in ogni nostra live la differenza di presentazione è grande quindi ovviamente mi sentirete grazie per il follow allora ho alzato ancora un pochino doc prova a parlare doc l'importante è che riusciate a capire insomma ciò che dico ovviamente ripeto la qualità non sarà mai a livello di quella di teo però l'importante è che sia comprensibile quello che dico grazie mille rinichi per il follow allora sistemo un attimo ancora due robe che l'alert qui non mi piace mettiamolo tipo qua Matteo Bonanno dice madonna doc da calvo a gesù ma quando mai sono stato calvo ma che è sempre stato gesù doc l'ultima volta che avevo i capelli corti avevo 16 anni ora ne ho 27 quindi fai tu allora diteci diteci bene se sentite me sentite doc e vedete la lo schermo con la tier list in maniera corretta dovrebbe essere tutto a posto non ho ancora guardato la chat quindi ragazzi vi saluto tutti adesso man mano ok tutto perfetto doc prova a parlare dicono che sei ancora un po' basso pronto prova ragazzi pronto prova come l'audio l'importante ripeto è che capiate ragazzi esatto cioè tanto non ci parleremo non ci parleremo troppo sopra spero quindi se quando parla doc lo sentite capite cosa dice l'importante è quello grazie christian i capelli di doc pure quelli a posto perfetto ok dai esauriamo le battute su gesù facciamole subito tutte esatto e legiamoci il pensiero sì so di avere i capelli lunghi me ne sono reso conto grazie per la segnalazione doc ma tu stai usando il microfono delle cuffie o eh sì sempre quello delle cuffie riesci magari a fare in modo che sia un po' più vicino alla bocca eh più di così eh magari esatto con i capelli te lo gestisci un po' magari lo tieni un pochino esatto provo a tenerlo eh molto meglio così ah guarda molto meglio molto meglio ok perfetto nel frattempo faccio il post nel mio canale che già è pronto ottimo 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 un po' di gente io vi ricordo intanto al solito i nostri social non ho avuto tempo volevo farlo di fare di un bot che postava il il canale del doc a loop doc posta pure in colla pure in chat il tuo il tuo canale per chi ancora non lo dovesse conoscere subito doc vai per chi non lo conoscesse io lo faccio lo stesso il la presentazione la faccio lo stesso ormai un amico ci conosciamo ormai da quanto? un anno e mezzo due più o meno eh altro creator di questo gioco ha una pagina instagram in cui pubblica schede post super dettagliati e super fighi in cui spiega un sacco di cose e quindi pagina telegram non instagram sì sì su telegram ragazzi su telegram poi vabbè anche un canale youtube che è un pochino un pochino fermo adesso però c'è ok ciao a tutti ragazzi intanto allora sul facciamo subito una cosa lascio parlare il doc esauriamo subito il discorso del buff di pantera visto che io ho avuto zero tempo da quando ho scaricato l'aggiornamento tipo un'ora fa quindi il doc mi ha detto che è riuscito già a provare un po' e leggere un po' di più quindi doc lascio parlare te per quanto riguarda le prime impressioni a caldo sul buff di pantera vai pure sì e allora io ho pantera classica 6 stelle in versione 6 stelle rang uno e ho scaricato l'aggiornamento verso le 5 5 e mezza quindi ho subito mi sono subito fiondato a provarlo e devo dire che praticamente mi ha un po' deluso dal punto di vista delle mie personali aspettative ma in fin dei conti ha praticamente soddisfatto tutto quello che mi aspettavo avendo letto la scheda in anteprima qualche giorno fa cioè non credo onestamente è ancora presto ovviamente ci vorrà un po' di tempo ma non credo che il suo buff sia considerabile a livello di quello di quello magari di talpa di quello che è stato falcon di quello che è stato crossbones non credo che avrà lo stesso impatto nel gioco al solito penso che l'obiettivo generale di kabam che è quello di rendere i personaggi perfettamente giocabili sia stato raggiunto quindi un player giovane magari che trovi questo personaggio tra i primi 6 stelle sicuramente lo potrà sfruttare però non credo che per chi ha un roster già piuttosto sviluppato non credo che cambierà qualcosa la cosa che risalta di più sicuramente sono i danni nel senso che fa degli ottimi danni da sanguinamento quindi ovviamente con ferite profonde maxate con le giuste sinergie fa sciogliere tutti i nemici che non siano immuni per il resto però purtroppo secondo me pecca molto di utilità perché alla fin fine il grosso delle sue utilità sono che può dimezzare la precision abilità attivando la sua fase particolare che è anche molto lunga devo dire può dimezzare la precision abilità e se doppio è ad abilità massima si ha un ulteriore 50 per cento di riduzione quindi si può arrivare al 100 per cento però in un mondo in cui un falcon con una schivata è un aggancio spegne qualsiasi avversario qualsiasi nodo in un mondo in cui talpa perché anche pantera da doppio sarà in grado di purificare un debuff intercettando però sempre deve essere al 200 per avere il 100 per cento di scianto e poi devi intercettare cosa che non è sempre sempre fattibile è una cosa rischiosa sì per definizione in un mondo in cui c'è talpa che smaltisce tutto in automatico crossbones che arriva al 90 per cento di smaltimento senza fare niente elsa elsa bladson che smaltisce tutti i debuff non dannosi immediatamente ecco penso che in un mondo già popolato da questi campioni faticherà a splendere quindi mi dispiace per chi lo stava aspettando io stesso avevo cioè o agon agon 6 stelle doppio a rango 2 pronto a salire al 3 ho aspettato ho temporeggiato ho detto vediamo se questo pantera risulta risulta particolarmente così eccezionale ma purtroppo non è questo il caso almeno secondo me secondo le prime prove che ho fatto i video che ho visto su youtube quindi non credo ripeto perché ha un roster già completo chi ha fiori nick fiori chi ha talpa chi ha falcon chi ha crossbones non credo che sia un personaggio che vi andrà a spostare gli equilibri ok ok avevo anch'io questo sospetto purtroppo ho visto che però gli hanno cambiato anche delle animazioni tu hai già visto qualcosa? sì 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 assolutamente hanno cambiato tutte le animazioni ad eccezione della speciale 3 quindi le speciale 1 speciale 2 le combo i pesanti tutto ed è veramente veramente figo come sempre il comparto delle animazioni di kabam non non si smentisce mai sinceramente è veramente proprio da quella situazione alla tigra un po' come tigra ok ok figo ascolto aggressivo vola di qua di qua calci rotanti è veramente bello quindi niente da dire da quel punto di vista però ecco ripeto dal punto di vista dell'utilità fa sanguinare molto e riduce un po' la precisionabilità quindi purtroppo ed è immuno allo stordimento quando autobloccano i nemici quindi magari in guerra ah tipo contro modoc sì 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 no ma proprio è fatto specifico proprio per non so se si affrontasse una medusa in guerra ad esempio non verrebbe assordito dal perry quindi niente di del perry dell'autoblocco ecco però niente anche fiori lo fa ed è 10 volte superiore come personaggio ok ok allora si parla si parla chi è arrivato tardi salvo si parlava di pantera del buff di pantera classico visto che il doc è riuscito a farsi già un un minimo di idea di prima idea e quindi stava un po' spiegando dicendo la sua su su sul nuovo pantera intanto grazie a tutti quelli che hanno lasciato il follow che sono arrivati adesso in live non siamo ancora partiti ufficialmente con la tier list tra l'altro ho bisogno di voi perché se vedete io ho già messo qui ho creato una categoria apposta dove ho messo i campioni talento così non stiamo come l'altra volta per scarcere riga per riga idea che mi ha dato il doc molto più intelligente di me il punto è che secondo aunt may dovrebbero essere 34 campioni io qui ne ho contati 33 ma non riesco a trovare il 34esimo allora 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 non so se è una falla di aunt may o doc guarda anche tu se vedi un talento qua nel mucchione che non ho messo nella si sto guardando vi giuro non lo trovo guarda a volte capita io a volte ho fatto classifiche mie personali ho guardato queste liste un milione di volte c'è sempre un bg che sfugge purtroppo certo sto guardando ragazzi anche voi chat belli attivi agguzzate l'occhio e ditemici se vedete un talento che non ho messo nella sezione campioni talento forse forse ah forse hanno già contato quello di questo mese sai che può darsi forse c'è già shang si certo certo su aunt may già c'è shang allora allora siamo a posto allora corretto allora ce li abbiamo tutti ottimo bravi ragazzi bravi ragazzi allora per fare un recap di chi non avesse seguito la prima live che abbiamo fatto insieme a tommy in cui abbiamo trattato la classe mutante abbiamo deciso di impostarla così tier list con sei categorie ovviamente i nomi sono ironici nel senso che almeno alcuni sono ironici si parte da i must have che sono la categoria che io ho voluto apposta per facilitare un po le cose visto che ci sono dei pg il doc penso che converrà con me con tommy siamo trovati bene su questa cosa ci sono dei pg in questo gioco che non sono solamente top ma sono dei pg che averli o non averli fa la differenza tra l'essere facilitato a superare determinati ostacoli determinati contenuti o no questi per me sono i must have poi ci sono i top che sono comunque top pg che però anche se non si hanno insomma il danno è diciamo minore poi ci sono i cool quelli che ho chiamato cool che sono degli ottimi pg utilizzati utilizzabilissimi che si rangano volentieri che si consiglia di rangare eccetera eccetera i vorrei ma non posso sono quei pg che hanno del potenziale ma gli manca qualcosa per splendere i ritenta sono quelli che hanno fallito diciamo l'idea che poteva anche essere buona ma fondamentalmente non vengono utilizzati e poi ci sono le due categorie proprio di di bassa lega ovvero i cessi a pedali e i cestini della monnezza qui divertitevi voi a decidere chi chi sarà cesso pedale e chi sarà cestino della monnezza comunque adesso vediamo un po insieme direi che possiamo partire a questo punto l'ordine direi di andare con l'ordine che abbiamo qui che credo sia forse alfabetico no in realtà non è alfabetico un ordine puramente casuale quindi ok partiamo partiamo col primo pg agente venom doc che ne pensi qua sarà difficile scegliere tra cesso a pedale e cestino della monnezza dai così cattivo io sarei stato un po più buono direi che un cesso a pedali almeno per come interpreto io può avere un'utilità perché comunque hai pedali quindi metti che non hai l'abicino metti che ti viene un bisogno fisiologico durante la traversata puoi espletarlo quindi personalmente agente venom con quelle quattro con quelle due abilità che ha potrebbe potrebbe essere un ottimo candidato per essere il nostro primo cesso a pedali no allora io penso che allora se lo guardo per le cose che in teoria ha come abilità perché ne ha di abilità in realtà non è che non ne ha cioè mi verrebbe da dire che è un pg che non ce l'ha fatta però effettivamente se guardi il fatto che non abbia nessun tipo di utilità offensiva e nessun tipo di utilità difensiva effettivamente cioè mi trovo abbastanza l'accordo difensiva con lo smaltimento è stato ai tempi uno dei migliori dei difensori quando c'erano 30 personaggi in totale di mezzo alla chance di evadere dei nemici piazza dei sanguinamenti basta basta Thor Ragnarok c'è raga è qui guardatelo è qui no Thor Ragnarok è qui guardate qui è qui sto girando la manina intorno a Thor Ragnarok questo argomento mi perseguito così come odio il film odio anche il personaggio va bene dai direi che allora appurato per il cesso pedali raga voi in chat siete a posto siete d'accordo sul cesso pedali ci fanno notare e ovviamente infatti dobbiamo un po' precisare questa cosa noi stiamo facendo questa classifica ovviamente dal punto di vista prettamente offensivo ovviamente se un personaggio è anche un ottimo difensore può cioè acquista valore è bravo bravo doc non ho non ho fatto il disclaimer l'avevo per scontato allora il disclaimer è questo i pg li valuteremo al massimo del loro potenziale questo vuol dire che se c'è un pg che è tipo egon nell'esempio lampante che da singolo è un cesso a pedali ma da doppio è un super top io lo considero un super top ok perché ovviamente è il massimo del potenziale però non voglio soprattutto nella cassa mutante c'era questo problema qua un po' meno non voglio considerare pg che per diventare forti devono essere in contesti troppo specifici ad esempio tutti i mutanti tutti gli x-men con apocalisse non li ho considerati con apocalisse li ho considerati da soli doc tu sei d'accordo di fare questa cosa c'è sinergie a parte ok io me ne sono io ho usato questa formula quando facevo le mie classifiche sul mio canale usavo sempre questa formula massimo potenziale quindi risveglio abilità 200 usati al meglio quindi ad esempio una quake una proxima una tigra ovviamente considerati nelle mani di un giocatore che le usa al meglio e per risolvere il problema delle sinergie io li consideravo con una sinergia fondamentale ok ci sta per non esagerare quindi magari domino domino con redulk con redulk ok blade con ghost rider ghost rider e viceversa così così perché ovviamente ci sono personaggi anche thor ragnarok il tanto amato thor ragnarok con un team di 4 slot occupati solo per lui può dire la sua comunque però sappiamo che ovviamente è una cosa molto poco realistica quindi bisogna trovare un compromesso ehi Tommy grazie mille per l'abbonamento prime un abbraccione ciao Tommy allora perfetto allora agente venom abbiamo deciso che il nostro primo la nostra prima utilitaria sanitaria perfetto perfetto è lui è lui allora andiamo avanti andiamo avanti io ho il mio faccione che mi nasconde quelli subito eh no no guarda basta che faccio così basta che faccio così ok grazie mille Ryu per il follo direi che passiamo oh questa è una bella gatta da pelare una bella gatta da pelare Kimpin il nuovo Kimpin io ho sentito veramente è uno dei pg che mi ha fatto più venire in mente il discorso dell'hype ovvero è un pg di cui si è parlato tantissimo tantissimi lo hanno super rangato appena è stato baffato però poi secondo me nel meta a livello proprio di competitivo di war eccetera eccetera io sinceramente non l'ho visto un granché un granché splendere e non lo so sulla carta è decisamente migliorato ma anche non sulla carta è decisamente migliorato però boh un pochino secondo me sono calmate un po' le acque non so cosa ne pensi tu doc tralasciando una mia personalissima antipatia nei suoi confronti anche a me sta antipatico eh non ci posso fare niente è la stessa storia la stessa storia di Hulk Buster cioè Hulk Buster dopo il buffo è un ottimo personaggio però personalmente mi fa antipatia non ci posso fare niente io credo che quello che soffre Kimpin sia la mancanza di affidabilità nel senso che una delle sue meccaniche più belle ad esempio è lo smaltimento dei debuff che è migliorato dopo il buffo però senza Wood cioè con Wood arriva al 100% ed è una cosa veramente incredibile quello sicuramente sì un'abilità fantastica però senza Wood mi pare sia sul 60% comodo ma non eccezionale e dobbiamo considerare il fatto che l'hype era anche dovuto molto al fatto che quando è uscito Kimpin Wood era anche baffato aveva anche quell'abilità c'è stato quel momento quel frangente in cui aveva quelle super abilità nuove che tutti hanno detto beh allora bomba ho Kimpin baffato che con Wood splende Wood è diventato un missile quindi tanta roba poi Wood lo hanno retrocesso e quindi anche Kimpin è rimasto un po' senza senza Buddy esatto esattamente giustamente dicono in chat il pesante il loop la panzata quello è figo grazie Giuseppe grazie mille per l'abbonamento grazie di cuore e non lo so è disastrosa la cosa diciamo io guarda personalmente guardando le nostre classifiche le nostre categorie lo piazzere per me è un buon candidato per i cool per i cool se non sbaglio è la terza conta sì conta che i cool sono la categoria subito dopo i top per quanto mi riguarda sì per me è un solide utilità perché appunto ha questo smaltimento che è con una sola sinergia che comunque prima o poi diventerà un buon PG quindi con una buona sinergia è immune praticamente a qualche debuff certo certo ha non dimentichiamo che ha una rigenerazione costante con forza di volontà perché è sempre sotto debuff esatto ha una piccola ma infinita rigenerazione un ottimo danno ha inarrestabile che comunque è una qualità abbastanza rara la degenerazione che mette con la speciale 1 e il debuff che mette con la 1 è molto comodo per me è un buon personaggio dai dai sì facciamo così tanto comunque raga comunque la nostra idea anche con Tommy avevamo fatto così per i mutanti è che buttiamo giù comunque diciamo il primo draft che poi se le cose sono fatte bene sarà poco da ritoccare però se poi quando arriviamo alla fine abbiamo il quadro completo ci rendiamo conto che magari qualcuno è stato messo in un posto sbagliato nulla ci vieta di cambiare le cose quindi per adesso Kimpin è il nostro primo cool sono d'accordo sono d'accordo comunque questa è la categoria più difficile da fare ed è anche la più scarsa sono abbastanza d'accordo sono abbastanza d'accordo ma si riferisce secondo te ai talento si si alla classe intendi la classe giusto? però io devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro perché fino a sei mesi fa saremmo stati tutti assolutamente d'accordo con questa cosa ora secondo me secondo me complessivamente hanno superato ma infatti ci stanno caricando con i talento perché sono resi conto che effettivamente c'era qualcosa da sistemare i buff sono stati quasi tutti talento i buff sono stati quasi tutti talento e quasi tutti ottimi pg nuovi talento tanti pg nuovi ora tra jabari c'è stato l'ultimo buff di pantera adesso san chi di cui tra l'altro già ho visto un po' ti dicevo prima teo le abilità poi ne parliamo allora poi ne parliamo è interessante si 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 ora purtroppo non c'è l'icona qui quindi non possiamo no no esatto qua alla fine facciamo anche un discorso su san chi si si esatto allora guardiamo un attimo la chat intanto per me ci sono piccole chicche che ritornano utili assolutamente d'accordo ciao ciao francesco benvenuti benvenuti a tutti quelli che non abbiamo potuto salutare raga siete tantissimi grazie di cuore tantissimi ragazzi quindi veramente grazie grazie se non riusciamo magari anche a leggere tutti i commenti allora oh vabbè qua facciamo così doc visto che tanti sono arrivati non da non da non subito nella live ho visto che lo hanno già richiesto questo sarà l'unico l'ultimo momento in cui spenderemo le parole su pantera visto che il doc ha fatto già un'introduzione visto che tocca a lui doc se vuoi un attimo riassumere ancora quello che hai capito del buff di pantera e così lo piazziamo anche già nella categoria che secondo anche secondo te visto che sei più sul pezzo merita grazie intanto per il follo dicevo chi prima non ha potuto non era ancora entrato in live che l'ho provato visto che ce l'ho 6 stelle ho visto vari video anche del rango 5 sia con tutte le sinergie sia senza sinergie è sicuramente migliorato dal punto di vista dei danni e dei sanguinamenti è ottimo però purtroppo non credo che possa offrire più di tanto cioè fa molti critici che però non sono potentissimi anche se sta sempre con 15 in crudeltà purtroppo questi critici non diventano non raggiungono chissà che livello i sanguinamenti sono ottimi contro i non immuni ne piazza tantissimi però a livello di utilità purtroppo è molto indietro perché oltre ai sanguinamenti ha un dimezzamento della recisione abilità che può arrivare al 100% però Pantera deve essere doppio ed attività massima e poi sempre da doppio intercettando si può smaltire dei debuff uno alla volta quindi rispetto a molti altri talento ecco secondo me purtroppo rimane indietro buon pg da danno così divertente da usare le animazioni nuove sono spettacolari però onestamente mi aspettavo di più mi aspettavo qualche utilità particolare mi aspettavo anche sanguinamenti critici cose del genere invece niente di tutto questo poi non so se sei d'accordo Doc ma ultimamente visto che la competizione tra i pg sta diventando importante cioè è molto più difficile diciamo emergere è molto più difficile perché comunque ci sono ormai tantissimi campioni che bene o male fanno le stesse cose che hanno un danno equiparabile le utilità ormai si sprecano ce le hanno tutti poi la classe talento ad esempio ha questa caratteristica di dei debuff sia nell'applicarli che nel purificarli dei critici garantiti con Talpa, Hitmonkey eccetera eccetera quindi insomma per un campione talento arrivare ad aggiungere qualcosa per dire oh ok scelgo lui quando c'è ad esempio Falcon che ha fatto questa cosa perché gli hanno messo un'abilità unica da quel punto di vista è difficile cioè è difficile veramente dire ok adesso divento una staple per un pg talento da rangare e a quanto dici pantera nuovo baffato sembra non avercela fatta così sulla carta sono d'accordissimo è il problema di tutti i personaggi ormai ricordiamo che ormai con quelli di questo mese dovremmo arrivare a 200 totali quindi in un mondo con 200 personaggi se un pg non ha quell'abilità che spicca è un po' cioè a mio avviso lo so che qua mi prendo gli insulti e non siamo più nell'argomento mutanti ma per me è un po' il motivo del declino di Domino cioè Domino rimane un po' più forte ma viene surclassata surclassata da almeno altri 10 mutanti se per non parlare delle altre classi perché? perché non è affidabile esatto perché Domino ha questa caratteristica può far partire il mega sanguinamento infatti qual è l'unico caso in cui Domino continua ad essere usata eccetera quando la puoi usare di parata pesante con Redulk perché? perché hai il 100% di mettere l'incenerimento e sai che il danno lo farai sempre lo farai sempre in maniera costante certo purtroppo ormai è una problematica di molti pg infatti io lo dico sempre a volte io rimango deluso da alcuni personaggi ma voi voi che ci seguite non vi fate scoraggiare soprattutto se siete diciamo ancora più indietro di noi rispetto al progresso nel gioco perché se noi ovviamente parliamo dalla prospettiva abbiamo 40 rango 5 diversi rango 3 e quindi quello che cerchiamo noi più avanti nel gioco sono quelle abilità che possono sconvolgere esatto quelle abilità in più quelle abilità uniche che cerchiamo i personaggi ad esempio parleremo dopo di Jabari Jabari a me piace tantissimo ma non perché mette tanti sanguinamenti o perché non lo so perché ha un'abilità di smaltimento dei debuff che è unica che ha solo lei e che quindi in certi contesti potrebbe risultare la migliore oppure un Falcon appunto con la sua semplicità perché Falcon è un personaggio semplicissimo tu scrivi indietro mantieni il blocco aggancio sull'avversario e lo spegni completamente e tra l'altro lo spegni facendo anche dei danni più che decenti che non è una cosa danni ottimi e precisione azzerata mentre un Pantera questo Pantera nuovo si fa sanguinare ma quanti personaggi ci sono che fanno sanguinare? 50? 60? cioè c'è Fury in questa classe raga c'è Fury c'è Hitmonkey c'è Talpa c'è Talpa un Carnage prendi un Carnage esatto se vogliamo i sanguinamenti prendiamo Carnage ciao Venom X23 ci sono un sacco di persone che cercano sanguinare qual è l'utilità che lo dovrebbe far preferire rispetto ad altri? purtroppo non la vedo è molto divertente le animazioni sono belle però non ha ecco questo quel quid in più che lo farà allora Nico che ci sta moderando la chat e lo ringrazio già ha fatto un sondaggio e il popolo ha votato vorrei ma non posso sei d'accordo? Doc? non lo so mi sembra ma ho paura che sia più una decisione dettata dalla delusione dal fatto che siamo tutti un po' delusi ok non saprei io sono combattuto comunque io ho votato cool però consideriamo che esatto il buff è praticamente di mezz'ora quindi bisogna anche dargli un po' di tempo per capire magari viene fuori un contesto dove è pazzesco quindi allora io mi sento di sposare il voto del popolo per ora nel senso per la delusione grazie intanto Giuda per il follo per la delusione iniziale che può aver dato lo mettiamo nei vorrei ma non posso grazie anche a Belva per il follo però ci riserviamo insomma Doc da qui ha un po' di tempo di dargli un po' di tempo per far vedere cosa è in grado di fare nel caso magari prossima classifica sarà più in alto ecco per il momento vorrei ma non posso dai ok vorrei rispondere a salvo come spiegate il fatto che su 200 pg anche rispetto ai pg che escono nuovi poi alla fine sono sempre gli stessi eppure datati di Parcangelo Doom dato dalla voglia di non studiare i nuovi pg che escono o altro secondo voi ecco secondo me è proprio la risposta è proprio il discorso che stiamo facendo cioè voi dovete immaginare che le sfide nel gioco funzionano col cosiddetto effetto che si studia in sociologia e in altre materie il cosiddetto effetto a collo di bottiglia cioè possono esserci un milione di personaggi ma se le sfide che bisogna attraversare rappresentano una strettoia attraverso la quale passano solo passano in pochi che fanno soprattutto ripeto dell'affidabilità l'affidabilità è la cosa più importante in questo gioco infatti i personaggi sempre utili sono ad esempio gli immuni perché? perché un'immunità è un'abilità assoluta tu ce l'hai e punto ne usufruisci un dottor doom per superare per arrivare un mistico a superare la resistenza i danni l'utilità il controllo che mette dottor doom in uno scontro ce ne vuole quindi è difficile che un personaggio perché è l'unica che può tenere testa gli unici due che possono tenere testa dottor doom sono Claire perché? perché ha una tripla immunità a rotazione controllo dello scontro totale ha questa versatilità che va a coprire un po' e l'altra secondo me è strega esatto l'altra che può tenerli testa perché? perché ha quella resistenza in blocco meravigliosa che non ha nessun altro personaggio del gioco perché ha lentezza che è una cosa che manca sia a doom che a Claire quindi tutti e tre vanno a completare quell'ambito quindi è un discorso di sfide poi di atto pratico perché sulla carta dei personaggi possono sembrare meravigliosi ma se poi messi nelle condizioni di superare gli eventi di giocare in guerra in accu eccetera non performano come i top ovviamente è inutile le risorse sono limitate ovviamente esatto poi dobbiamo considerare anche che diverse fasce di player grazie intanto ad Emanuele diverse fasce di player hanno diciamo necessità diverse però dovete pensare che l'obiettivo di ciascun player in questo gioco un player ovviamente che gioca appassionatamente che gioca con costanza non diciamo il casual gamer però se uno gioca con questo gioco in maniera seria l'obiettivo è quello di crescere per arrivare a competere a livello di acu e di war a livello più alto possibile per lui e così come a poter completare tutti i contenuti anche più difficili del game arrivare ad atto 7 arrivare ad abisso quindi considerare un pg perché riesce a completare atto 5 per dirvi è limitante perché ormai al punto in cui siamo arrivati praticamente con dei buoni pollici e qualche risorsa chiunque ti può fare atto 5 il punto è un pg quando veramente si stacca dagli altri quando diventa questo beyond god che vedete nelle classifiche di tutti quando tutti i top player o comunque quelli che giocano a livelli abbastanza alti se devono fare una scelta di 3 pg da portare in war 3 pg da portare in aq e 5 pg come team ideale per un evento alla fine sono 3 3 5 sono 11 pg che sono sempre quelli che girano quelli sono i top è per quello che il doc dice il collo di bottiglia esiste tutti i pg fanno qualcosa però quali sono quelli che vengono utilizzati veramente sempre a discapito di altri questo è il ragionamento che dovete sempre farvi dovete guardare avanti dovete guardare chi è più avanti di voi per valutare veramente bene un pg assolutamente poi ovviamente rivediamo sempre il divertimento è una cosa importante chiaro chiaro ma è un discorso che va pesato va pensato va pensato cioè vi potete concedere dei rank up di divertimento però il consiglio è sempre se non giocate ad altissimi livelli quindi se non avete tantissime risorse ovviamente concentratevi unite utile e dilettevole io poi sono il primo che la metà dei rank up che faccio sono rank up utili effettivamente l'altra metà sono rank up di cazzeggio così perché mi diverto a usarli un alfiere una rog sono personaggi buoni ma che ovviamente non sono al top delle loro categorie ma mi fanno divertire mi fanno andare avanti quindi li faccio li faccio oh ragazzi oh ragazzi abbiamo sia Claudio che Ponsi ciao belli che bellezza che bellezza tra l'altro doc non so se succede anche a te però è una roba che a me succede spesso e mi crea anche una discreta frustrazione io a volte faccio questo ragionamento che fai tu e dico mi concedo un rank up buffo ok però nel momento in cui mi concedo un rank up buffo va a finire che se c'è un evento tosto sfidante non lo uso e quindi userò sempre i soliti se c'è un evento fuffa la mia cioè il mio grip nel farlo è talmente basso che quando uso quel pg buffo che ho rangato apposta dico vabbè ma tanto questo scontro lo potevo fare con qualsiasi pg e quindi in realtà non riesco mai a trovare un vero modo di godermelo quel pg buffo cioè se non per farci una guida un video parlarne con però alla fine non lo usi quando serve quando non serve potresti usare qualsiasi altro pg e quindi alla fine cade tutta la magia a me succede questo io li uso sai dove ad esempio nei secondari ad esempio hai presente il pallosissimo secondario di questo mese certo io ho fatto le prime volte ho messo i tre più forti che avevo sono andato ok facilissimo però poi ho detto che palle però devo farlo altre 30 volte con questi personaggi sai che noia e quindi ho cominciato a farmi il team con alfiere il team con uomo cosa il team con tigra il team soprattutto con logan ho portato il mio ultimo rango 5 è stato logan certo gli ho dato la generica immaginate gli ho dato la generica 5 stelle perché tanto non me ne frega ormai la generica 5 stelle la do anche a Thor Ragnar ma sì ma mi sono divertito mi sono divertito mentre altrimenti a fare quel mensile ogni giorno con fantasma e doom e corvus sì ci stai 10 secondi però ti rompi le scatole ecco quindi io io li sfrutto in quello oppure nel cavaliere certo nelle varianti così per questo però ovviamente lo possiamo fare perché? perché abbiamo giocato a livelli abbastanza alti quindi abbiamo un gran numero di risorse quindi mi raccomando non fatelo a casa allora vedi Salvo sta dicendo una cosa interessante sarebbe bello avere degli eventi dove la caban ti affida a un team e ti assegna delle missioni specifiche da fare per costringerti a conoscere e usare nuovi pg ottimo sarebbe una gran figata questa infatti io infatti io sono vai 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 scusa doc vai pure no io volevo dire l'esempio delle varianti a me piace quando metto le restrizioni esatto perché le restrizioni le restrizioni ti portano a fare dei ragionamenti diversi che è un ragionamento cioè che è il modo che a me è sempre piaciuto di ragionare in questo gioco ovvero devo fare questa cosa chi me la fa fare quando ero più scarso di profilo dovevo fare ogni volta questo ragionamento come lo supero questo chi è quel personaggio tra quei pochi che ho che ha questa abilità quando arrivi ad avere bene o male tutti quelli che ti servono devi solo selezionarli dire ah beh qua serve questo questo di qua questo di qua quando ne hai pochi devi veramente trovare delle soluzioni ed è questo che mi ha ingrippato del gioco in prima battuta e dopo un po' ti adagi un pochino diventa un pochino più macchinoso e più meccanico diciamo ecco allora beh qua doc direi che sul prossimo pg c'è veramente poco da discutere non so cosa ne pensi tu ma è l'altra pantera per caso è l'altra pantera potremmo inaugurare già una nuova cioè potremmo già mettere un pg il primo pg di un'altra categoria cosa ne pensi tu per te addirittura immondizia per me sì per me non è peggio di Agente Venom non è peggio di Agente Venom io ho del buono in tutto e poi purtroppo l'ho visto full synergy lo so che non dobbiamo continuare eh vabbè lo so all'armatura quindi potrebbe fare Avok in teoria basta mette qualche sanguina non lo so però sarà che Agente Venom mi sta più simpatico non lo so io l'odio proprio Agente Venom quindi non sono oggettivo è vero Tommy dice da considerare che a livelli magari non altissimi può essere un discreto difensore quindi dai sono sono d'accordo sono d'accordo con voi facciamo compagnia d'Agente Venom dai dicono per me bisogna creare una tier solo per Panther solo per lui dai dai va bene va bene lo accetto lo accetto allora ho qui abbiamo un personaggio controverso perché abbiamo un personaggio che fino a poco tempo fa era diciamo molto fuori dai giochi perché non era disponibile 5 stelle è uno di quei pg che hanno detto ciao pigliatevelo perché così piangete sul passato però insomma dire datato secondo me è poco cosa ne pensi io ripeto ho sempre il mio faccione che mi impedisce di vedere no no adesso dovresti dovresti vedere no no li vedo intravedo ah perché forse sul cellulare sul cellulare è diversa la tiro un po' su allora la tiro un po' su proprio meglio comunque ci metterà qualche secondo quindi intanto questo qua dimmelo vedova vedova classica ah vedova classica ok ok allora già l'hai spostato vedova classica no certo molti di noi sono affezionati più veterani perché in passato era considerata cioè era comunque l'inibitrice più potente del gioco esatto sono stati 5 anni quindi l'ho vista a rango 5 ed è veramente deludente sì la sua abilità da doppia a livello massimo è buona però anche lì cioè non è non è una riduzione come quella di falcon quando aggancia no 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 lo era lo era esatto lo era prima del famoso aggiornamento esatto ora mi pare che il massimo arrivi a 80% di riduzione poi contro gli scientifici arriva quasi al 100% ma comunque ripetiamo sempre l'affidabilità è tutto l'80% in questo gioco è quasi come avere il 10 cioè a livello cioè se tu vai contro uno spiderman e quello spiderman ha 1% di chance di evadere ti evadrà e ti pesterà esatto anche perché kabam sappiamo che i conti con le percentuali non è che li sa fare proprio bene esatto quindi non non mi sento di metterla mi pare male metterla nei cessi a pedale vabbè la mettiamo nei ritenta solo per la gloria dai ritenta solo per la gloria però raga solo per diciamo un premio un premio la carriera ecco vedi la così un premio la carriera allora c'è un altro sondaggio hanno lanciato un altro sondaggio nella chat la classe talento è la peggiore del game no per me assolutamente no c'è di peggio non più ragazzi lo era fino a pochi mesi fa non più ragazzi prendete per me i cosmici e i tecnici sono peggio sono venuti su veramente da una manciata di personaggi tolti quelli non rimane sai che però secondo me anche la classe talento è in questa situazione cioè se tu togli veramente quelli che poi arriveremo a mettere al vertice se tu togli quei 3-4 tutto il resto è veramente veramente inutile cioè secondo me non hai livelli delle altre perché se tu a parte i top ovviamente che ci sono in ogni classe tu metti un un Egon Fury Stealth Falcon vedi già quanti diventano poi abbiamo un Crossbones un Killmonger un Elsa abbiamo un Kingpin sì sai perché perché io sono sono annebbiato dal fatto che ad esempio la tecnica ha dei top proprio quei super top al vertice sono talmente forti che mi fanno dimenticare che poi appena scendi un attimo c'è il deserto dei Tartari quindi è vero probabilmente la classe talento non è la peggiore del game sono d'accordo mi ci avete fatto ragionare è la stessa cosa con i Cosmici perché uno è annebbiato perché pensa subito a Corvus a Cosmic a Capitana a Iberion scolti loro rimangono Venom magari Medusa Arcus questi qui e poi basta 20 personaggi del 2015 che fanno schifo quindi è un argomento sempre più difficile ovviamente perché il gioco sta crescendo tantissimo però per me la talento non è più la più scarsa completamente non so quanto manca alla fine del sondaggio ma per adesso sta vincendo c'è di peggio con il 53% siamo lì comunque la gente si è molto divisa su questa domanda no Venom non è affatto malvagio Venom è molto forte no no forte certo però diciamo ecco abbiamo detto i top poi ci sono caccia medio alta però poi c'è un declino totale mentre invece un talento mettiamo un Killmonger ma anche un Massacre Massacre non è assolutamente al top però è comunque un personaggio utile una Gwenpool sono tutti personaggi che si possono usare è già Bari la nuova e ora vedremo Shang-Chi cioè sono personaggi comunque interessanti Tupac Checco dice ma solo io adoro Surfer guarda tolto il prestigio e qualche qualche contesto in cui se hai Hyperion bloccato lo usi su Baffa Volontà secondo me è un PG mediocre buono a me piace però sicuramente è sottovalutato nel senso la gente pensa che sia una merda totale no assolutamente però non regge il confronto con altri ha vinto ha vinto ufficialmente il sondaggio c'è di peggio col 60% ok bravi ragazzi giusto ora ad esempio hanno fatto una piccola modifica Odino ne approfitto perché tanta della gente che ci sta seguendo si sta chiedendo anche per gli altri piccoli buff che ci sono stati Odino Odino l'hanno fatto un po' più forte ora con questo piccolo buff ma per me ad esempio un surfer si si non ce la fa tre volte più utile già solo per l'immunità che ha quindi non è un buon pg però non divaghiamo comunque allora torniamo in carreggiato intanto grazie per il follo a Ryukotsu 94 allora qua c'è il vero il vero old but gold o comunque il vero ex capitano della classe uno dei pg che ha fatto più più discutere cioè io da quando gioco un periodo come quello del dominio di blade non me lo ricordo sinceramente cioè è stato veramente una follia una follia cosa dobbiamo dire di blade nel 2021 ad aprile maggio 2021 scusate ora ora è difficile molto difficile ora è difficilissimo trovarli un posto perché secondo me c'è stato un declino indiscutibile però secondo me adesso potrebbe essere usato ma perché siccome la gente ormai l'ha classificato come pg da cestinare magari se lo dimentico quando invece potrebbe io sono d'accordo è quel pg che ormai la gente non usa più perché tanto non si usa più però nessuno va mai a pensare che comunque quello che faceva prima lo fa ancora e secondo me è un pg più che discreto più che discreto cioè a voglia secondo me ora il grande limite di blade ovviamente è quello che per accedere al massimo del potenziale deve occupare uno slot con ghost rider esatto ghost rider un tempo ghost rider cioè insieme erano un'accoppiata fantastica ovviamente ghost rider con l'enorme esplosione della classe mistica è scivolato molto in giù per quanto io lo ami quindi inevitabilmente quello slot quasi sempre non dico che è bruciato però comunque non è usato come e poi dobbiamo considerare un'altra cosa che kabam ha messo in piedi ha messo in atto un vero e proprio boicottaggio nei confronti di blade perché per uscire dal loop in cui si era cacciata da sola con il discorso che blade dominava troppo soprattutto in war hanno semplicemente fatto uscire con il discorso degli scagnozzi di thanos del black order eccetera un sacco di pg che sulla carta dovrebbero essere cattivi dovrebbero essere villain e quindi distrutti da blade senza il tag e quindi da lì ha cominciato blade ha cominciato a non avere più tutti questi matchup favorevoli e quindi ad essere un pg che è andato un po' nel dimenticatoio se non avessero probabilmente fatto questa cosa sarebbe durato un po' di più il suo dominio quindi non lo so tu lo metteresti accanto a kimpin lo metteresti ancora nei top guarda io personalmente lo metterei nei top perché se continuiamo come requisiti appunto abbiamo detto abilità massima ricordiamo la sua rigenerazione che comunque è allucinante sfruttato bene e con almeno col minimo scusate massimo una sinergia che appunto quella di ghost rider di fatto è un personaggio che distrugge un terzo dei personaggi del gioco quindi per me comunque tutto sommato è ancora poi oh raga la rigenerazione che ha blade non ce l'ha ancora nessuno forse claire è l'unica che riesce ad avere quella rigenerazione e a superarla perché parliamo ancora di un pg che tieni premuto e torni al 70% di vita e non esistono non esistono regge bene i suicidi applica tanti debuff alua crescita a potere passiva con i debuff che praticamente spari speciali a cannone c'è tante cose che la gente ormai dà per scontate che però in un unico personaggio si toglie debuff cioè fa una marea di robe blade che poi anch'io ce l'ho in panchina da un secolo però insomma ci fanno notare che giustamente appunto noi dobbiamo sempre considerare la prospettiva di tutti quindi se noi magari appunto non lo usiamo più prendiamo ad esempio io lo sto usando ad esempio nella cavaliere per esplorare la cavaliere è ottimo perché c'è un globale nella missione di talento in cui appena i nemici appena termina un debuff sui nemici tu prendi una furia con blade ci stai un secondo e hai dieci furia ed è un animale quindi un player più giovane che sta facendo le sue prime i suoi primi mensili a difficoltà cavaliere con blade passeggio quindi più a q in a q ad esempio immortale in a q nelle a q un po' più bassine esatto fino alla 6 ecco diciamo esatto per me è un personaggio non è più ovviamente al top della categoria totale non è un must save però per me è un ottimo personaggio va bene va bene direi che il top se abbiamo dato il ritenta alla carriera per vedova che una carriera fondamentalmente non ce l'ha non ce l'ha proprio più da eoni blade visto che la concorrenza non è neanche così esagerata secondo me si merita di stare lì allora bravo bravo ronoa altro punto molto importante perché noi stiamo valutando pg finora tolta tolta diciamo vedova che ci sono 6 stelle non abbiamo mai visto all'opera un blade 6 stelle eh un blade 6 stelle potrebbe fare molto brutto potrebbe essere il modo giusto di farlo tornare in meta io lo farei sinceramente però grazie Joe Stark infatti c'è proprio da interrogarsi sul perché infatti non ha senso non ha senso mi chiedo sempre perché lui Ghost Rider vabbè ovviamente Quake Quake è l'unica su cui sono d'accordo Hyperion anche Hyperion non lo so però ci sono fantasma Ghost Rider cosmico capitana non lo so Hyperion sarebbe proprio cioè li distruggerebbe tutti secondo me ma tutti proprio provabile però prendi una Medusa perché non esiste Medusa 6 stelle eh sì Medusa potrebbe benissimo esserci grazie Skinny ad esempio Medusa e Ghost Rider onestamente li metterei Ghost Rider sarebbe probabilmente immortale a dei livelli mai visti immortale sì non saprei però Hyperion no Hyperion proprio non ci sarebbe partita secondo me allora andiamo avanti e qua c'è un altro personaggio controverso perché comunque la classe talento è stata talmente tanto forzatamente tirata su con buff sinergie e robe strane perché ad esempio Soldato d'Inverno è un PG che giocarlo senza Killmonger o con Killmonger hai praticamente due PG diversi sei d'accordo Doc verissimo quindi non lo so tu come lo è uno di quei casi in cui possiamo fare un'eccezione e considerare Winter Soldier con Killmonger perché preso singolarmente è veramente cioè rasenta l'inutilità cioè mette i sanguinamenti o incenerimenti e ogni tanto assorbe potere da doppio certo se vogliamo considerarlo con la sinergia potremmo metterlo ritenta al massimo beh oddio con la sinergia è più che ritenta è più che ritenta esatto è uno Star Lord alla fine è uno Star Lord sì 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 questo è inagabile non lo so è molto difficile però boh raga facciamo così abbiamo detto che li consideriamo senza sinergie perché soprattutto se sono così vincolanti quindi per me Winter Soldier senza sinergie è un cestino della monnezza cioè perché non fa niente qua ci sarebbe qua ci sarebbe un bel sondaggino io non so ci sta Nico se c'è voglia di fare un sondaggino però parliamo sempre di Winter Soldier senza senza Killmonger perché con Killmonger siamo molto più alti anche di di vedova classica ma molto più alti dicono dicono utile solo per provare il PG che hai appena trovato questo mi sembra il miglior commento finora che sia arrivato soldato è il nostro sacco da bocca madonna che tra l'altro raga veramente io stesso continuo a fare l'errore di Rangon PG e vado contro soldato e poi ogni volta mi guardo allo specchio e dico ma che cazzo serve andare contro soldato niente cioè perché alla fine è un contesto ormai talmente inflazionato e talmente irreale cioè Reame due anni fa tre anni fa potevi dire vabbè hanno 300k di vita adesso madonna nell'evento secondario c'hanno 300k di vita ancora un po' quindi grazie Sir Daniel va bene direi che per adesso lo lasciamo nei cessi e pedali ovviamente senza Killmonger raga senza Killmonger mettilo più basso non merita di stare assieme ai cessi e pedali dai esagerato dai per adesso ora non abbiamo ancora messo nessuno nei cessini della monnezza stiamo stando troppo buoni mi sa c'è il sondaggio c'è il sondaggio io stesso non so cosa ok aspettiamo il sondaggio allora senza sinergia allora è sicuro c'è stino per me c'è stino dai che ci fanno uscire i sette stelle per allungare il brodo vabbè ovvio prima o poi o il gioco muore o i sette stelle prima o poi devono arrivare quindi ahimè ormai fa ridere mi ero perso vai vai no era solo un saluto mi ero perso il follow di Sir Daniel ah ok no dicevo che se ci pensi il mio leader il cinque stelle cioè l'idea di avere una cosa cinque stelle nell'immaginario collettivo il cinque stelle è il top già quando avevano annunciato sei stelle mi faceva ridere l'idea di avere un sette stelle che non è non è tipo applicato la dicitura sette stelle a niente nel mondo non esiste cioè dovrebbero secondo me rivedere un po' sto sistema del ranking perché cosa facciamo i dieci stelle che schifo fa cioè si può sentire ma secondo me secondo me stanno allungando tantissimo con la storia dei catalizzatori per rangare i sei stelle proprio per questo perché con i cinque stelle non mi pare sia stata così lunga non mi ricordo in realtà sì ma ora ovviamente il gioco è molto più grande quindi per un sacco di tempo i sei stelle rango 2 hanno fatto prestigio ora i sei stelle rango 3 fanno prestigio poi ci sarà la storia dei sei stelle rango 4 i sei stelle rango 5 ma stadi chi sa che cosa combineranno quindi io non non so se vedremo mai i sette stelle onestamente anche perché consideriamo ovviamente che per quando semmai ci saranno i sette stelle la difficoltà cavaliere del mensile sarà come il maestro di adesso esatto già la cavaliere per il nostro livello io non ne uso di risorse in cavaliere quindi ci dovrebbe essere tutta una serie di varianti anche le varianti stesse ci dovrebbe essere proprio una serie enorme di eventi per non far annoiare chi ha una base di sei stelle rango 3 rango 4 rango 5 quindi immaginate quei sette stelle quindi non lo so esatto come dice Nico inizieranno a fare come Apple penso che sia riferito magari ai giochi tipo cos'è il gioco dei cavaliere dello zodiaco dove i PG sono rancati tipo con S WS X cioè avrebbe anche più senso penso che si riferisca proprio ai telefoni tipo l'iPhone X ah ok no perché tipo nel gioco dei cavaliere dello zodiaco che non sapevo cioè non so di che casa produttrice sia i PG sono rancati così tipo c'è il PGS WS AAA S quindi magari avrebbe più senso che mettere 10 stelle ecco tutto qua ok ok telefoni ha vinto comunque cestino della monnezza ok ha vinto cestino della monnezza quindi io penso che il popolo è sovrano in questo caso quindi ciao ciao è stato bello però però vedere ve lo dico e vedere Pantera Civil War sopra soldato un po' mi fa male al cuore io ve lo dico poi poi ci torniamo poi ci torniamo allora tra l'altro vorrevo sottolineare il commento più bello che ho letto finora dopo quello che avevi detto tu prima che è di 7 stelle c'è solo la sacra scuola di Okuto non mi ricordo chi l'ha detto ma Marcello numero 1 totale ok Tiremin Nance oh qui c'è un bel rework fresco fresco che non ha ancora avuto tempo di dimostrare il suo valore ovvero Crossbones Crossbones è tosta è tosta è bello ma è un personaggio che secondo me richiede molte skill molta skill e molto rischio anche sì 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 però è un personaggio sfruttato bene io ripeto sono dell'idea di considerarli al massimo nel loro potenziale chiaro chiaro nelle mani di un player bravissimo nelle mani di un player bravissimo Crossbones ha danno altissimo cioè ragazzi ha tipo più mille passi di attacco per furia sì arriva di numeri folli arriva veramente di numeri folli stiamo parlando di un incremento dell'attacco che supera i 100k cioè 100.000 in più di attacco forse l'attacco di base più alto del gioco può raggiungere ha uno smaltimento di debuff comodissimo inibizione totale delle abilità avversarie tanti buff quindi utile nei contesti in cui serve per me è un top Crossbones per me Crossbones è un top tu dici che è un top anche perché se abbiamo messo Blade nei top io credo che Crossbones se facciamo un discorso puramente di metagame potrebbe essere più in meta di Blade cioè potrebbe essere più utilizzato di Blade anche di più perché a parte Crossbones sì la sinergia di Mangog li allunga di più lo rende più utilizzabile ma anche senza quella sinergia è comunque un animale ragazzi ho visto dei video da solo in abisso contro la cosa contro la donna invisibile ed è una sai qual è il problema che secondo me Crossbones è uno di quei pg che soffre la sindrome del quello che vedi non è sempre quello che riesci ad ottenere cioè se tu vedi il gameplay perfetto è un po' come Tigra no? se tu vedi il gameplay al top dell'R3 giocato alla perfezione nello scontro giusto dici minchia broken abbiamo rotto il gioco poi però ogni volta che dici ok adesso prendo Crossbones e faccio quella roba lì quante volte riesci a farla quante volte puoi permetterti di farla è quello il suo problema secondo me però giustamente lo dice anche Tyke Tyke penso si pronuncia Tyke non saprei nei commenti dice giustamente però già con 5 furie è ridotto del 100% 5 furie tra l'altro contro chiunque ma 4 furie contro gli eroi quindi tu inizia lo scontro picchi un attimo ti prendi una furia scatti indietro mantieni il blocco 4 furie hai spento probabilmente per il resto dello scontro hai spento l'avversario i danni certo a 99 furie sono danni allucinanti ma anche non ci arrivi ok a 12 15 furie fa comunque danni importantissimi ignora le resistenze non fa critici che in tantissimi contesti sappiamo che è un'abilità molto rara è super utile quindi no per me Crossbones è veramente ok Nico intanto ha messo un sondaggio mettendo proprio le categorie quindi vediamo cosa ne pensa la chatta io mi sentirei di metterlo di metterlo o cool o top però secondo me è più forte di Kimpin quindi io mi sentirei di metterlo nei top per me è più forte mi viene il dubbio guarda solo perché per natura sono portato a paragonarlo a Falcon perché sono abbastanza simili e io per gusto personale forse per semplicità preferisco un po' Falcon ok vuoi anche perché ce l'ho rango 5 quindi lo uso spesso preferisco un po' Falcon però quello che ha Falcon in semplicità Crossbones ce l'ha per danno e per smaltimento di debuff che Falcon si anche perché non abbiamo ancora avuto modo di vedere un Crossbones usato normalmente cioè usato con un livello di skill medio diciamo senza fare le capriole ogni volta effettivamente quanto può portare avanti un player quindi secondo me anche per lui è ancora presto per dirlo però il potenziale c'è tutto cioè il potenziale c'è veramente tutto sì 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 mi piace veramente per adesso sta vincendo il top però vediamo vorrei vederlo vorrei vederlo poi in contesti appunto più quotidiani esatto più quotidiani più adesso magari i player migliori del mondo farci la cosa in abisso ovviamente ma non è una cosa che si fa tutti i giorni cioè tu chiaro ci fai la cavaliere ci fai atto 6 ecco vorrei vederlo un po' più in quei contesti per me il potenziale c'è tutto quindi io confermo il mio top vediamo cosa vota la shot ok sta leggermente vincendo top grazie Egon per il follow chiedono se serve doppio crossbones in realtà sarebbe meglio ah lo smaltimento però però per i danni no le meccaniche sono tutte identiche da doppio semplicemente da una chance di smaltire di debuff però a 200 arriva a 90% quindi e soprattutto li smaltisce e li convertisce e li convertisce li converte mi è sembrata la cosa giusta no assolutamente li converte li converte in furie quindi immaginate tutti quei nodi come i nodi con le debolezze gli affaticamenti blocco potere quando i personaggi gli avversari che vi mettono squarcio di continuo eccetera ecco vi pompano le furie senza dover fare niente quindi esatto è un po' come fa sunspot con il discorso di autoalimentarsi le cariche contro gli immuni allora ha vinto top per pochissimo quindi confermato un voto quello che dice il dog però visto che il nostro voto come il buon Alessandro Borghese può confermare o ribaltare il risultato abbiamo anche il popolo dalla nostra quindi vai ci siamo ci siamo sul top Anto chiede ma solo contro eroi o contro tutti praticamente lui contro gli eroi le persone con tag eroi ha dei bonus in più ad esempio con la speciale 1 anziché mettere una furie ne mette tre poi che altro forse anche come si dice la oddio la la capacità di prendere furie che aumenta contro gli eroi quando mette sopraffazione quando mette le furie mi pare che contro gli eroi ne metta di più una cosa del genere comunque è più facile da usare contro gli eroi è più gli incenerimenti se non sbaglio sono più forti ne mette due ne mette due anziché uno quindi diciamo può essere usato anche contro i non eroi contro gli eroi è devastante contro gli eroi è veramente devastante sì 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 ok ok allora qui abbiamo un altro bello un altro bello scivolone per quanto mi riguarda un altro bello scivolone che è Daredevil Netflix un PG che doveva svoltare in realtà è solo una rottura di palle con quella special 1 che non finisce mai è veramente insopportabile forse il PG che odio di più affrontare in tutto il gioco addirittura no mi dà proprio fastidio il fatto che devo aspettare ogni volta che finisca di fare quel balletto è insopportabile insopportabile era più forte prima dice Tombi ma in un certo senso sì cioè nel senso prima squarciava storia di un sacco e parava a zero aveva il 40% di scienze di parare a zero se non ricordo male comunque era una percentuale molto alta dopo il buff non ho mai sentito una persona che abbia detto ho fatto questa cosa con Daredevil mai proprio mai ma anche perché anche perché era un PG che la gente ha detto aspetta esiste ancora? ah ok lo buffano fammi vedere se lo devo tirare fuori dalla cassa panca nel momento in cui ha visto che nope l'hanno lasciato nella cassa panca cioè proprio nessuno ci ha investito nessuno zero proprio ma la cosa che un po' mi cioè mi fa pensare ad esempio tutti i buff ogni volta che buffano due o tre PG c'è uno che splende e gli altri di meno giusto? prendiamo Carnage prendiamo Logan che sono sicuramente inferiori a Venom Colosso e gli altri compagni però comunque se li vuoi usare sono personaggi che possono dire piacevoli sì esatto che fanno qualcosa Daredevil è veramente frustrante da usare a quella riduzione della rigenerazione bruttissima per cui se hai i suicidi muori in 30 secondi tecnicamente mi viene da dire che è proprio perfetto per la categoria vorrei ma non posso perché le meccaniche in teoria ci sono però poi sono ottimizzate malissimo però non me la sento di metterlo in vorrei ma non posso cioè per me è ancora più basso conta che qua Wargriever dice il mio Daredevil Netflix ha fatto 9 kill in difesa nell'ultima war vabbè poi consideriamo il lo diciamo il versante offensivo quindi sì sicuramente è un difensore più antipatico vedi esatto qua qua Massi Sinigaglia sta portando alla luce un conflitto e io sono abbastanza d'accordo cioè Daredevil Netflix è più scarso di soldato e noi abbiamo messo soldato nei cestini della monnezza più scarso di soldato se è soldato in sinergia se è soldato da solo ah beh sì dai è vero è vero Daredevil comunque ha accesso a più buff quindi può fare varie cose alla furia può inibire il danno dal ritorno di spine elect eccetera ha sempre un debatto addosso quindi comunque rigenera con forza di volontà inibisce la precisionabilità no non c'è paragonia il popolo il popolo ha votato per cesso pedali cesso pedali io sarei più su ritenta io sarei più su ritenta però io rivedrei il discorso soldato abbiamo detto che non consideriamo Killmonger quindi non parliamo ne più però sì Tom mi dice riesce a ridurre potenzialmente l'abilità del 100% infatti cioè per me non c'è paragonia no dai no dai secondo me è un ritenta secondo me è un ritenta soldato è perché siamo abituati che lo vediamo con Killmonger ovviamente con quella sinergia e fa bene i danni raga io non vedo i sondaggi in cima alla chat li trovi ma poi sono molto fugaci cioè se non li vedi subito durano cos'è non so Nico da quanto li sta facendo un paio di minuti credo una roba così secondo me è un ritenta raga secondo me è un ritenta perché ci hanno provato poi ritenta che io non l'ho scelto a caso ritenta ritenta sono quei pg che ci hanno anche provato hanno messo tipo il piedino hanno detto ci sono anch'io però no però mi dispiace ma la prossima volta sarà la tua volta quindi dai ok andata con ritenta qua ci abbiamo il fratello scemo io non starei troppo a perderci tempo col fratello scemo che è una delle vecchie glorie ricordiamo che è una delle vecchie glorie mi ricordo il 4 stelle quanto lo volevo doppiare per schivare le robe del collezionista cioè veramente ai tempi della nonna Gertrude ricordiamolo ai player più giovani che ci seguono che il classico quello più quello più semplice diciamo aveva questa abilità fantastica tuttora questa abilità che da doppio può arrivare al 100% di evasione delle speciali a proiettile quindi 100% è totale raga l'abilità unica è più forte di Stark in questo senso che attiva le speciali con una certezza a superiore addirittura al 100% quindi peccato che non faccia nient'altro assolutamente nient'altro sì mi pare il blocchia zero forse fa qualcosina stordisce con le speciali e basta una ciofeta quindi cioè nel meta a parte che non esiste comunque se esiste 5 stelle è rarissimo forse esiste 6 stelle mi pare non ricordo ah sì c'è 6 stelle il fatto che lo devi doppiare lo devi portare a 200% se vuoi quell'abilità onestamente non lo augurerei al mio peggiornio esatto esatto dai direi che che comunque si merita di stare di fianco a a soldato perché veramente è un pg che la gente si dimentica anche che esiste raga cioè veramente si dimentica che esiste se lo siamo ricordati ora perché c'è stato il buff dell'altro daredevil abbiamo detto forse baffano anche lui no ciao di nuovo cioè quando trovi daredevil 6 stelle classico dici oh cazzo ma veramente c'è ancora sto pg c'è uno di quei pg che dici ah ah pensavo l'avessero cancellato silent silent deletion e invece invece no invece c'è esatto beh ma ce ne sono un po' di questa categoria di pg qua che dici cazzo ma tipo iron fist iron fist lo trovi talmente tanto che in realtà te lo ricordi sto stronzo il mio primo 6 stelle non me lo scorderò mai tranquillo il mio primo 6 stelle è stato king root quindi a voi tonkio e bluff ba grazie mille per il follo allora e grazie anche a un'altra volta bluff ah bluff abbonamento grazie mille gli alert si sono incastrati eccolo adesso è arrivato grazie di cuore davvero per il supporto ragazzi mi raccomando spammate la nuova emoticon di neve che c'è un capolavoro adesso la sto spammando io mi sembra che qua meritiamo il premio pulsner per questa emoticon allora siamo arrivati a un'altra vecchia gloria perché io mi ricordo che quando ero pischello la volevo tanto questo pg lo volevo tanto perché faceva un sacco di cose carine soprattutto due cose carine avere assassino incorporato era uno dei riduttori abilità insieme a vedova uno dei migliori riduttori abilità quindi Electra è difficile perché c'è un ho notato che c'è un nucleo molto hardcore di amanti di Electra tuttora che quando gliela tocchi imbazziscono Electra riduce col dominio davvero c'è gente davvero che elogia ancora Electra nel 2021 ci puoi fare non lo so la cosa di abisso non so chi personalmente nel 2021 onestamente non lo so non ti dico cesso a pedali però proprio non no secondo me è un altro è un altro ritenta un altro ritenta non conosco molte persone felici che sarebbero felici di trovarla ecco magari dice come primo come primo sei stelle hai quattro personaggi in croce ci puoi fare qualche cosa però non no il problema è che le manca le manca anche lì le mancano i valori le mancano i valori non ha immunità non ha utilità diciamo affidabili al cento per cento i danni sono quelli che sono c'è Blade che praticamente è Electra 3.0 da quel punto di vista quindi no 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 quasi no io direi che secondo me secondo me è più scarsa è più scarsa di Vedova di Daredevil Netflix non lo so mi piange un po' il cuore però sì penso anche perché comunque noi questi personaggi così antichi non li vediamo c'è anche questa la trovi dici oh cazzo Electra è vero che c'è anche lei no a parte questo ma dico un tempo si poteva dire Electra e ti veniva in mente ah sì sotto il 20 per 25% dei nemici fa solo critici quindi ha un buon danno no cioè se la provi contro l'avversario della 300.000 ti addormenti prima che finisca lo sconto esatto esatto se non ha più che sanguinamenti poi il danno è ridicolo cioè ma in generale quasi è come se non esistesse secondo me se la giocano cesso e ritenta a sto punto do l'ultima parola al pubblico c'è il sondaggio in corso io sarei più per il cesso doc se dovessi votare tu guarda anche lei per la gloria passata le metteremo perché comunque un personaggio che qualche meccanica figa non lo so aspetta vediamo chi abbiamo messo nelle altre c'è sul pedale a livello di no dai per me dai io voto ritenta tu voteresti ritenta vediamo cosa dice il popolo scusate un attimo che mi do una soffiata di naso velocissima alexio dice la più scosciata del game la più scosciata del game merita il ritente vabbè qua se entriamo nel gusto estetico è tutto un altro paio di maniche l'unico scopo di Electra giusto questo è il mio leader che scrive l'unico scopo di Electra è impastidire chi ha i suicidi sono d'accordissimo ti fa saltare le parate quando hai i suicidi mannaggia a lei Tommy dice più value di Vedova perché non serve doppia e ha più danni che abbia più danni sai che non ne sono troppo convinto siamo là comunque dai cioè se Vedova critica con la special secondo me tira le pizze più forti però non lo so anche lì c'è anche la testa ma appunto è quello il fatto sono belli critici garantiti però ha vinto cesso raga ha vinto cesso ho previsto il futuro mi spiace Electra il tuo amato il tuo amato Matt Marduk ce l'hai un gradino sopra o un gradino sotto ma come c'è sono Tommy ma cosa ci fai con Electra ma tu hai mai visto qualcuno rangare Electra negli ultimi quattro anni cioè tre anni e hai mai visto qualcuno rangare Electra dai cioè no io ripeto avrei votato ritento però alla fine il bello è anche che il popolo deve partecipare ci sta ci sta infatti questo l'ho premesso nel video mi sono voluto fare del male da un certo punto di vista a fare queste cose in live perché altrimenti vi dicevo la mia voi ve la puppavate è bella lì invece dai così è un po' più divertente allora qua c'è un pg che è nel mio cuoricino e so che è anche nel cuoricino di Doc assolutamente che è Elsa Bladstone l'ammazza mostri la monster hunter bella bella Elsa poi è divertente nel senso è uno dei pochi pg che ha delle abilità nuove cioè nel senso che le hanno inventate per lei è figo cacchio cioè è bella ho già la mia idea e per me non è tra i top ma sicuramente tra i cool secondo me è un cool al 100% tra i cool Elsa non so chi lo è onestamente è divertente da usare utilità perché mette tanti debuff fa ottimi danni scavalca le resistenze smaltisce i debuff come nessun altro nel senso che i debuff non dannosi li smaltisce al 100% quindi non sono un problema con lei si svincola dal perry perché ha quell'evasione meravigliosa quando fa il perry evade contraattacca che è una cosa che non ha rende nessun altro personaggio di gioco mette ondata di freddo contro chi evade e non li fa evadere si trova le aperture con quella quella sorta di stordimento passivo che mette di evasione passiva che ha quando blocca qua dicono una cosa interessante due cose interessanti dicono una è che è più in meta di blade e sulla carta è vero cioè a livello di meta è vero e poi dicono che è la domino dei talento ovvero meriterebbe una categoria a parte non lo so domino secondo me è più controversa di elsa perché essa comunque quello che fa lo fa cioè poi se ti serve o no quello che fa se valuti più o meno quello che fa è un conto però quello che fa lo fa sempre domino è quel pg che dipende da come gira dipende da una miriade di fattori quindi non lo so secondo me le abilità di blade sono più efficaci come abilità come scheda come pg che poi se è meno in meta sono d'accordo io valuto blade anche per quello cioè per l'impronta che ha avuto nel game un po' di più di elsa anche perché ripeto elsa c'è 6 stelle blade no però sicuramente se la giocano cioè blade cioè elsa secondo me è lì è cool e mezzo è tra il cool e il top ecco sì anche secondo me anche secondo me cioè ti risolve secondo me il fatto che ha quel paio di abilità che ti risolvono cioè per me è la migliore counter di void ad esempio per me è una bestia nera cioè io void odio però io ho notato una cosa doc è un personaggio che è qua lungo no che contro void a livelli molto alti cioè se tu vecchi un void veramente tanto pompato ci muori lo stesso con elsa cioè quella quel danno che ti fa quegli istanti quegli istanti prima che lei purifichi ti fanno malissimo quindi in realtà però vero ma non lo so dico considerando ovviamente di giocare contro void cioè nel senso tu stai sempre attento alle dieci alla decima combo chiaro chiaro poi se ti scappa qualcosa esatto si scappa quel debuff lei ti farà ma comunque in generale ci sono quei nodi ad esempio io odio il nodo delle debolezze è un nodo facilissimo però ti allunga lo scontro devi scappare fare andare e dire ecco lei è una bomba lei è ottima poi rivediamo a tantissime piccole grandi utilità danni che non solo fa tanti critici perché se non sbaglio hai il rating critico più alto del gioco ma fa quel danno extra soprattutto da doppia che quindi bypassa tutte le armature le resistenze fisiche esatto è un personaggio figo veramente figo quindi cool per me cool ah guarda tra l'altro abbiamo anche il voto del popolo con il 54% sono curioso di vedere l'altra opzione cos'è che era l'altra opzione ah non ho visto i voti vabbè vabbè comunque ha vinto cool e l'avevo già messa nei cool quindi perfetto Elsa molto meglio di Kimpin ma secondo me stanno bene insieme come power level secondo me ci stanno ci stanno fanno cose diverse ma ci stanno ok io qui ho veramente pochi dubbi e credo che Falcon soprattutto per un player medio alto non altissimo sia veramente uno di quei pg che averlo non averlo può fare la differenza in maniera importante cosa ne pensi sono un po' combattuto io amo Falcon l'ho fatto rango 5 immediatamente appena appena è stato baffato lo vorrei troppo 6 stelle ed è un personaggio che appunto ragazzi considerate che in un roster tipo il mio che ho praticamente 60 personaggi rangati quindi posso spaziare tra tantissime abilità è un personaggio che comunque uso tantissimo lo porto in guerra e lo uso negli eventi appena c'è vedo una strada pg che vadano Falcon punto sì ho delle alternative però Falcon soprattutto se non posso assorbire è sempre lui la scelta ma perché è facilissimo cioè fa quella roba in maniera uber efficiente senza che devi fare niente grazie per il follow l'unico dubbio quando è stato baffato è stato che l'aggancio poi il cooldown durasse troppo ma onestamente neanche te ne accorgi cioè soprattutto perché lo usi spesso contro gli scientifici quindi aggancio dura di più esatto appena finisce appena finisce temporeggi 8 secondi che veramente volano ti metti tua in parata aggancio di nuovo ciao e te lo dimentichi quindi io sono combattuto ovviamente top è la base potrebbe essere anche non tipo subito must have solo perché so già chi ci metteremo e forse non è considerato però secondo me va analizzato un po' cioè va un attimo interpretato quello che intendiamo per must have cioè allora io se grazie intanto sia a city che a out pop live per il follow allora se io non avessi trovato falcon così tardi ma lo avessi trovato in esplorazione 8 6 penso che la mia esperienza in gioco sarebbe stata molto molto migliore quindi se mi metto nell'ottica di uno che deve superare certe rogne e può avere accesso a falcon fa meno male che meno male che ce l'ho quindi io in quest'ottica sono più improntato verso un must have ma perché è veramente il più efficiente riduttore abilità del gioco adesso penso a mani basse no se la gioco con quake se la gioco con quake ma secondo me quake ha proprio non è in tier list quake cioè poi ci arriveremo quando parleremo con gli scientifici perché quake è un pg che bara bara falcon non bara però cazzo cioè il punto è che proviamo a considerare solo l'evasione tu hai dei pg che vadono davanti e allora cominci a pensare devo usare corvus però prima mi devo prendere la missione portare proxy eccetera beh o talpa adesso che va bene c'è anche talpa sì devo usare talpa però talpa devi sacrificare il danno esatto 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 oppure porto killmonger però devono essere con speciali contraattaccabili se li posso stordire e mettere sangue e veleno li porto arcangelo se posso invece tu hai falcon ovviamente un altro ottimo è professor x che secondo me vabbè professor x è devastante però falcon fa questo non solo per l'evasione a differenza di tutti quelli che ho appena citato o comunque la maggior parte falcon lo fa con tutto con i nodi ragazzi con i nodi falcon fa rischio biologico grazie maurì falcon fa bruciatura gelida falcon fa armatura chiodata fa spine fa limbo di magic electro fa veramente la qualunque cioè sono pochissime le cose che non può fare falcon fa la cosa e il danno raga il danno non è per niente male è da doppio soprattutto sì 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 il danno è ottimo contro chi evade è spettacolare ancora più alto perché mette le crudeltà per me non lo so io appunto il sondaggio è terminato ha vinto must have col 60% e sono d'accordo io sono d'accordo sì 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 poi l'aggancio ricordiamo l'aggancio è passivo vi invito a leggere se non l'avete letta l'ultima guida che ho pubblicato sul mio canale telegram proprio sulla differenza tra buff debuff attivi e passivi l'aggancio di falcon è passivo quindi lo mettete ve lo dimenticate non esistono pigimuni non esiste niente nessuno può fare niente esatto se voi mettete un buff di colpo diretto con un altro personaggio magari vi salta il buff per qualche motivo se voi mettete un debuff e qualcuno magari se lo toglie l'aggancio non succede niente voi lo mettete e avete finito esatto Daniele must have vuol dire necessario è del discorso che ho fatto io prima io non lo avevo ai tempi delle rogne ma se lo avessi avuto ai tempi delle rogne mi sarei risparmiato probabilmente un sacco di rianima un sacco di pozioni quindi per questo secondo me è necessario c'è chiaro che si può sempre picchiare il chiodo nel muro stando dieci giorni e alla fine il muro lo buchi però qua dobbiamo parlare di personaggi che ti facilitano effettivamente l'esperienza in game e un falcon è un pg che veramente facilita l'esperienza in game e lo fa con un effort che è quasi nullo perché non devi fare cioè quake lo fa ma almeno lo fa anche molto meglio ma devi spenderci del tempo per imparare ad usarla per arrivare a quel risultato invece chiunque sa scattare indietro tenere il blocco e attivare l'aggancio ed è finita lì basta poi dopo temporeggi un attimo quando scade quando va in cooldown e poi lo rifai cioè intanto picchia applica i debuff counter a qualsiasi cosa ragas visto che stiamo parlando nella classe e non nei 250 pg di tutto il gioco secondo me must have è una una definizione che si sposa bene con falcon vero perché fai bene a sottolineare che stiamo parlando appunto della classe è ovvio che stiamo parlando della classe raga questa tier list è della classe talento non è la tier list di tutto il gioco serve doppio secondo me per il danno sarebbe molto meglio molto meglio da doppio ragazzi si fa molti più critici quindi l'aggancio dura un po' di più ma sono due secondi quindi niente di che le utilità sono tutte lì anche da singolo però da doppio ha proprio un buon star rating critico cioè se volete avere un pg che sia completo e quindi dici spengo tutto quello che devo spegnere e lo scontro mi dura anche meno doppio è sicuramente meglio sì sì ma steve è più di top basta guardare ragazzi grazie trash per l'abbonamento per il rinnovo due mesi con me grazie di cuore ma steve è più di top sì ragazzi l'avete davanti la tier list basta guardare avendo una gemma aderezza a lui cioè gli aderezza se fossi già completo non vi scordate che lo vedrete poi ora lo vedremo nella classifica i due i due top assoluti della classe sono Aegon e Fury che sono due personaggi che da singoli Aegon è da buttare praticamente Fury quasi quasi esatto sono due personaggi che vengono stravolti da risveglio Falcon è un po' più forte ripeto da doppio ha un bonus a rating critico quindi da doppio fa più critici è anche ottimo con i suicidi è bravo diciamolo fa più critici fa critici più spesso quindi è un'abilità comoda ma non essenziale quindi poi decidete voi in base alla vostra situazione eh raga quindi merita la gemma è appena finito di dirlo il doc il discorso quindi merita la gemma è un discorso che non ha senso così fuori dal contesto ripeto la classe talento ha i due top PG che sono entrambi top PG solo se sono sdoppi quindi se avete la gemma talento e non avete svegliato Aegon e Nick Fury tenetevi la gemma questo è quello che penso io forse io non ripropongo Panterone Classico l'avete considerato pre-buff avete fatto qualche premessa no? ti sei perso eh sì l'abbiamo fatta due volte sì 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 sicuramente si è entrato dopo l'abbiamo considerato già modificato perché ho avuto modo di trovarlo e di vederlo già qualche ora prima di questa live quindi è già considerato buffato poi ovviamente abbiamo fatto la premessa che è talmente fresco il buff che comunque bisogna dargli un attimo di tempo esatto esatto ok dai qui ci togliamo subito il pensiero se c'è un PG che ha questa definizione è lui cioè è proprio quasi cognata per lui questa definizione Egon è un PG che se ce l'hai o non ce l'hai certi contenuti quasi li fai o non li fai quindi c'è veramente poco da dire è un cesso a pedali è un cesso a pedali esatto quindi lo mettiamo subito nei cessi a pedali ecco no raga Egon è quel PG che tutti devono avere tutti devono aver doppiato avere la gemma per doppiarlo perché avere Egon o non avere Egon non in tutti i contenuti ovviamente ma in alcuni contenuti fa la differenza da 0 a 100 nel considerare quell'evento come fattibile piuttosto che no quindi direi che non stiamo neanche a spenderci troppo tempo per Egon no cosa dici Doc sì 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 assolutamente e tra l'altro è probabilmente appunto l'unico cioè in questo gioco non esiste un personaggio che si deve avere per forze ma se esistesse oltre forse Quake esatto sarebbe proprio Egon sarebbe Egon perché se volete fare l'abisso al 100% senza Egon è possibile però è tutta un'altra storia quindi non no no è proprio è proprio un PG che ti blocca cioè vedi il must have io lo intendo quasi poi nel caso di Falcon è un po' più sfaccettato ad esempio però lo intendo quasi come un blocco cioè un PG che tipo come può essere stato torcia per me nel dire adesso vado avanti in abisso cioè io finché non lo trovo non vado avanti capito quello per me è il must have non esiste non esiste un must have più di Egon proprio non esiste esatto soprattutto in questa classe cioè in questa classe proprio non c'è sì sì per me l'altro è Quake l'altro è Quake sapendola usare però esatto ok dai ovviamente Quake è più Quake è più nel quotidiano perché la usi più in eventi certo Egon è per eventi speciali però però esatto il punto è che quello che puoi fare con Egon non lo puoi fare con Quake ecco diciamola così allora qui mi prendete al cuore mi prende al cuore proprio forse il PG che più ho amato quando ero pischellino nel gioco un PG per cui ho fatto Arena ai tempi 6 milioni per la 4 stelle spaccandomi la vita e che ho usato praticamente all'infinito finché finché usavo i 4 stelle ecco perché poi 5 stelle non è arrivata tipo mai è arrivata tardissimo però Gwenpool secondo me è un gran PG è ancora un gran PG purtroppo ha la sindrome di Blade ovvero ha la sindrome del nessuno ne parla nessuno la usa e quindi fa schifo cosa che secondo me non è vera perché ha delle abilità ancora uniche ancora fighissime il suo problema più grosso è il problema che ha sempre avuto ovvero quello di spegnersi quasi completamente contro gli immuni a sangue cosa ne pensi Doc? Sì è stata la mia prima 4 e 55 la mia prima rango 4 singola per un sacco di per un sacco di anni non sono mai riuscito a doppiarla quindi poi un sacco di personaggi l'hanno superata a un certo punto dopo 3 anni mi sono scocciato l'ho risvegliata e l'ho portata al 5 ovviamente rivediamo in un roster molto grande non trova lo spazio che trova un tempo però se non è un personaggio su cui si dorme molto è molto sottovalutata perché oltre a sanguinamenti a uno squarcio armatura della 3 che è il più potente del gioco ha la spossatezza della 2 che è un'abilità fantastica bellissima bellissima il nemico lo puoi picchiare al muro e non guadagnerà più potere e poi ha gli stordimenti che entrano a random troppo belli anche da doppia ricordiamolo che se ha fatto di non farsi colpire ha quella riduzione continua del 2% per colpo 50 colpi 100% arrivi a 40-45 poi arrivi a 50 colpi hai spento completamente l'avversario e non muori con gli attacchi speciali quindi c'è ad esempio un personaggio che carica potere a palla che spara speciali 3 a MyPing tipo io la usavo un sacco per Hyperion contro Hyperion ci sono quelli strange quei dottor strange che a volte hanno quelle crescite poteri infinite a fatto che poi riusciate a cavarvela rimanendo con l'1 2% potete andare avanti all'infinito quindi ha delle abilità uniche Granbull è veramente 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 forte quindi per me per me è ovviamente fatta tantissime differenze neanche a dirlo io l'ho provata sia con che senza il dominio ferite profonde assolutamente assolutamente provandola con il dominio a 5 è proprio un altro personaggio nel sondaggio ha vinto ha vinto cool beh addirittura qua si vede secondo me sono player un po' più giovani che non hanno l'amore che abbiamo noi per Guempul mamma mia secondo me Guempul è più forte di Elsa non lo so boh cioè anche lì Elsa potrebbe essere più in meta perché si usa anche in difesa però cacchio guarda che se devi progredire usi più Guempul che Elsa secondo me non so avrei detto inizialmente top però riguardando quelli che abbiamo già piazzato forse sì forse è giusto forse è giusto perché comunque ha dei limiti esiste 6S sì esiste 6S sì c'è Simone della cricca che l'ha fatta a rango 3 da poco Guempul merita rispetto sono d'accordo con Tom io sono di parte raga con Guempul veramente però anche io però dai secondo me dobbiamo dare il beneficio al popolo anche se comunque sì no dai avete ragione voi raga io ci ho fatto con Guempul 4 Stelle la famosa sfida quella dei ragni te la ricordi doc quella del film quando è uscito Homecoming con Avvoltoio e Spider-Man Stark che c'erano tutti i ragni su tutte le strade io li facevo tutti con Guempul arrivando a 50 di combo che non ne vedevano più Guempul 4 Stelle c'è un parto veramente dai ci sta mettiamo la culla dai va bene perché non vedi i sondaggi dovrebbe essere in cima la chat la gente sta votando quindi non so se da cellulare c'è qualcosa che non li fa non si vedono in qualche modo io li vedo io sono da cellulare e li vedo eh allora non so fateci caso raga dovrebbe essere in cima la chat allora finito sondaggio ok si cosa abbiamo qui ok abbiamo un altro pg che ai tempi era anche portato su palmo di mano perché effettivamente c'ha un ottimo special 1 però insomma invecchiato un po' maluccio invecchiato un po' maluccio che ne pensi tu di di occhio occhio un pg che all'epoca nella sua semplicità era fantastico mica la special 1 era totale special 1 meglio della special 2 cosa che capita quasi mai però si si mai capito perché la special 2 di occhio fa lo stesso danno di sanguinamento e non assorbe potere quindi occhio è uno dei personaggi che vorrei più baffati in assoluto perché secondo me una volta scrissi anche ce l'ho salvato su telegram una scheda un prototipo di scheda come lo vorrei figo perché col fatto sarebbe fighissimo io me lo immagino che schiva indietro mantiene il blocco e cambia le munizioni tipo soldato tipo soldato si però più complesso che mette sangue veleno shock andata di freddo tipo in base a quello che mette ottene dei bonus ok secondo me sarebbe proprio figo in linea col personaggio occhio ormai ah e poi esteticamente bruttissimo avrebbe bisogno anche di un rework estetico super basico poi mi fa ridere la cosa che dico sempre parlando di occhio che è un personaggio che può centrare una formica con una freccia da un aereo e non mette un cazzo di buff di precisione cioè un personaggio che fa della mira il suo potere e non ha un critico garantito sì sì andrebbe decisamente rivisto decisamente rivisto allora non è sicuramente un cestino della monnezza per quanto mi riguarda e non lo so cioè quell'abilità in realtà lo ha tenuto in piedi per un bel po' secondo te è un cesso a pedali? no secondo me è un ritenta è un ritenta nella serie è un baffami è un ti prego baffami sì 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 assolutamente li voglio troppo bene a occhio non lo posso non lo posso insultare in un'epoca in cui c'erano Magic e Occhio di Falco per controllare il potere visione esatto e tra l'altro cioè con Occhio di Falco lo controllavi bene il potere raga perché tu bastava che spammavi special 1 esatto a differenza di Magic ad esempio Magic dovevi arrivare alla 2 e gli avversari che si toglievano in debuff ti annullavano il blocco potere invece Occhio di Falco tu andavi boom sparavi la 1 sparavi la 1 sparavi la 1 li facevi sciogliere sanguinamente e ciao quindi penso che a memoria magari mi sto sbagliando però a memoria la vera pietra tombale di Occhio di Falco è stata l'uscita di Blade cioè quando è uscito Blade Occhio di Falco praticamente non se l'è più filato nessuno anche se Blade non rubava potere però cioè tutti gli occhi sulla classe talento sono concentrati su Blade e Occhio di Falco tipo sparito vabbè ma perché poi faceva solo quella cosa faceva solo quello sì faceva solo quello quindi non purtroppo non regge più poi sono usciti altri contro la potere non può essere paragonato intanto aspettiamo la fine del sondaggio per decretare per adesso sta vincendo Ritenta quindi la chat ci sta dando credito vediamo un attimo vediamo un attimo dicono tra i talento è l'unico che assorbe potere ma sai che forse sì guardo un'occhiata veloce se non consideriamo la spossatezza di Gwempul penso proprio soldato d'inverno lo fa randomicamente sì sì è l'unico talento che assorbe potere vero mi pare proprio di sì vediamo un attimo quanto manca ancora pochissimo ok il popolo ci ha dato ragione ritenta sono d'accordo sono d'accordo allora oh mamma mia quanto mi fa incazzare sto PG c'è stato un periodo che lo trovavo continuamente continuamente poi quella cosa che c'aveva il doppio catalizzatore mi faceva di un triggerare che non potete capire un PG questo è veramente un vorrei ma non posso però in realtà un vorrei ma non posso scarso quindi non lo so come lo devo valutare sto Karnak mi sa che è un cesso è un cesso è un cesso però cazzo colpo diretto ce l'ha facile la special 2 fa delle belle pizze non so poi c'è sta cosa della sinergia con Medusa vabbè ah dalla sua la sinergia Medusa ha uno degli incrementi a rating critico più alto e più facile e più duraturo del gioco è una cosa che mi è sempre piaciuta un sacco cioè con lui se non ti fai colpire mi capicchi ma non mi ricordo se è 5000 di rating critico cioè è una cosa allucinante passivo infinito cioè è un'abilità fantastica vero quello che dice A27 la special 1 più inutile del gioco per quanto riguarda il danno si però mette colpo diretto che brutto non è dopo dopo il rework di Spider Gwen però perché vi ricordo i più veterani di voi si ricorderanno Spider Gwen prima del rework che aveva la special 1 che considera lei che scappava non faceva niente attivava solo l'evasione tipo in più lei scappava cioè sparare una special per attivare un'abilità difensiva cioè tu dicevi tu dicevi bello posso usarla per schivare le speciali no perché non la puoi sparare mentre la stanno sparando gli altri la speciale comunque sì Karnak non merita di esistere addirittura hanno fatto il sondaggio qua per adesso vabbè non merita di esistere però non abbiamo la categoria poi vabbè vuol dire che sarà l'ultima per adesso sta vincendo non merita di esistere raga attenzione se vince non merita di esistere lo devo mettere nei cestini poi ha veramente ecco mi dici tu vorrei ma non posso brutto in senso veramente brutto ha uno smaltimento un po' più veloce dei debuff da doppio soffre molto meno l'avvelenamento esatto regge i suicidi regge i suicidi e picchia forte potenziale mi sembra che con la 3 mette un bel disorientare tipo una cosa del genere molto lungo passivo che riduce la precisione abilità quindi ce l'ha le sue abilità però veramente picchia veramente tupacchè ecco che cattiveria io l'ho odiato l'ho odiato perché c'era veramente un periodo che mi perseguitava però c'ho sempre quella roba che dice sarà perché secondo me è figo è figo come design cioè non è brutto da vedere quindi a me piace come si muove esatto quindi mi dà sempre l'idea che sia un pg figo quando lo vedo e poi mi ricordo che fa cagare ed è sempre una grande delusione io per un sacco di tempo prima che ci fossero tutti questi video su youtube eccetera era uno dei personaggi che volevo portare al 5 per distinguere per dire io ho carne e trengo 5 vabbè diciamo che tu le tue porcate le tue porcate le hai fatte doc quindi le ho sempre fatte però ho detto ah quel critico quel critico quasi assicurato colpo diretto sarà fortissimo poi ho visto dei video rengo 5 vabbè niente dai raga mi costringete ha vinto non merita di esistere che non è neanche una categoria quindi lo devo mettere nei cestini della monnezza hello darkness my old friend ok va bene no Alfonso a me esteticamente non dispiace Karnak no infatti perché ha tutto quello stile non è un personaggio basico come può essere un Iron Man classico che hanno tutti quelle movenze uguali ha quei colpi belli sembra che sta cosa sta facendo la special 2 è soddisfacente quando tira fuori il pezzo di terreno e te lo spara in faccia cioè è carino dai il problema è proprio là sembra il danno cioè non è come la furia grazie ningetto allora la domanda che porcate ha fatto il doc la teniamo per un'altra live in cui la live si chiamerà le porcate che ha fatto il doc e vi spiegheremo tutte le porcate che ha fatto il doc state sintonizzati su questi teleschermi per sapere le porcate che ha fatto quando arriviamo a un migliore di iscritti facciamo il video delle porcate del doc ragazzi è facile praticamente metà del mio profilo ma non potete vederlo perché vedete solo i top quelli che fanno credere che in realtà abbia fatto delle scelte oculate quando in realtà non è così ok allora ho altro personaggio che ha spaccato la community il personaggio per cui sitting si è beccato più insulti di sempre perché è tipo l'unico creator altisonante che non lo ha mai apprezzato davvero quando tutti gli altri lo hanno abbastanza alloggiato soprattutto ai tempi d'oro ovvero Killmonger Killmonger secondo me è ancora un gran pg è ancora un gran pg ha perso un pochino di di punching non so come dirlo un pochino di cazzutaggine però però è ancora un pg assolutamente al vertice della classe non so cosa ne pensi tu doc sono combattutissimo perché è un pg che non ho mai avuto il piacere di avere cioè l'ho trovato veramente da poco quindi non lo rangerò io ce l'ho 6 style rango 2 doppio tra l'altro a suo modo ha fatto la storia se vogliamo perché comunque a parte oltre essere stato sempre un difensore tuttora è un difensore abbastanza sognoso è un personaggio che comunque ha molta versabilità ha molta resistenza che è una cosa che io adoro nei personaggi sa come prendere un pugno ha le sue utilità fino a un po' di tempo fa l'avrei votato top a mani basse ora sono un po' io penso che non ho dubbio sul fatto che sia ancora top per le categorie che abbiamo stilato noi non è un must have ma è assolutamente più importante hunting game di un kingpin o di una elsa o anche di una guampul secondo me è un top proprio a tutti gli effetti la cosa che mi ha un po' deluso quando l'ho visto poi l'ho anche provato in certi casi però sempre non altissima possibilità è un po' il danno il danno è vero il danno è un po' deludente il danno è un po' deludente ah quella cosa della speciale 3 che è meravigliosa cioè tu la fai quella roba lì è fighissima si scioglie davanti che va a compensare molto però il danno proprio nell'immediato proprio picchiando non è eccezionale se critica la special 2 qualcosa fa però però ha ha quelle cariche indistruttibilità fantastiche quella secondo me è la sua abilità più forte oltre al colpo diretto che vabbè ma il fatto di fare special 2 e poi tankare tutto secondo me è troppa roba troppa roba non sono molto convettuto il popolo decide vediamo il popolo manca poco per adesso sta vincendo uh attenzione non me l'aspettavo sta vincendo cool è un pg che non è molto amato non so perché secondo me è un po' più le nuove generazioni secondo me attenzione colpo di coda vince top col 51% due volte io sono molto contento perché secondo me se lo merita killmonger dai raga killmonger guarda che a me ha aiutato tanto cioè in difesa raga in difesa anche a livello molto alto devi sempre portarci qualcuno eh perché sennò rimani lì eh è un personaggio importante dai ha uno schema di sinergie con tutte le frontiere con stabre con voi se parli boicotti il voto no raga ma figuratevi io dico la mia oh ci mancherebbe il voto è libero segreto personale com'è come il voto è così no ma ci sta no dai ci sta ci sta cioè se abbiamo messo lì Kimpin ascolta viva viva killmonger per quanto mi riguarda dai dai ci può stare allora ok oh qui abbiamo il pg preferito di katiewan lo vedi doc no no solito problema night treasure ah un personaggio uno dei più sottovalutati del gioco io non ho mai avuto sbatta né di investirci né di quindi non lo so cioè sulla carta ok ma non lo so è un personaggio che bisogna è proprio il personaggio di micchia per definizione il personaggio secondo me è uno di quei pochi personaggi che quando io becco uno che ce l'ha rango 5 oppure rango 3 eccetera so che quella persona ne capisce cioè che non è un non è una persona che gioca così seguendo la massa grazie matti già per questo già per questo la dice la dice molto deve essere doppio possibilmente d'abilità almeno 80 80 100 ma è un personaggio che è molto sottovalutato perché ricordiamolo magari a chi non lo conosce bene perché di solito è uno di quei personaggi che quando si trova soprattutto 6 stelle che è difficile da doppiare la gente se ne esce lascialo stare non ne vale la pena però è un personaggio che ha immunità e incenerimento accesso a shock accesso a shock e incenerimento accesso a sberleffo che è uno dei buff più belli del gioco quindi accesso a tanti buff può mettere tante furie quindi accesso a tanti debuff quindi fa buff a volontà e fa dissing è un personaggio che ha un ottimo blocco che ha uno dei pochissimi personaggi se non l'unico comunque ha un colpo diretto integrato eh raga non si può quiccare è cosa che mi ha sempre fatto triggerare non poco uno dei suoi cioè tutti i suoi colpi con lo skateboard quindi gli attacchi medi pesanti non possono essere vasi autobloccati questo dal primo istante di ogni scontro quindi lui parte lo scontro e ha già un modo per contrastare l'evasione che per tanti anni è stato l'unico praticamente accesso abbiamo detto a tutti questi debuff può mettere da doppio tante furie e gli sberletti quindi può giocare molto aggressivo e fare danni molto importanti anche una cosa che conosco in pochi sotto una barra se fa perry o schiva un attacco gli cresce potere quindi raggiunge la uno subito così a ruota e la può sparare a raffica mette precisione è un personaggio ripetiamo immune incenerimento il problema è che è un personaggio che richiede un grande investimento e di solito i grandi investimenti sono visti da tutti come qualcosa da fare su pg che sono sulla bocca di tutti che comunque sono che si vedono nei profili di tutti quindi sono veramente pochi quelli che come dici tu magari che sono andati a spulciare meglio che dicono ok mi prendo l'impegno di arrangare Night Trasher doppiarlo portarlo all'abilità X quindi è anche per questo che si vedono anche poche dimostrazioni del suo potenziale però per quanto mi riguarda non dirò il voto per adesso perché dicono che influenza il sondaggio ma aspettiamo poi vi dico la mia sta vincendo il voto giusto te lo dico io Enzo Lampard mi dice aggiunge che purifica si purifica però solo se vieni buttato a terra quindi se ti prendi in faccia una speciale o un pesante quindi vi sconsiglio di sfruttare questa abilità ecco il sondaggio secondo me sta vincendo il voto giusto ormai mi sento quasi di dirlo siamo abbastanza una vittoria netta per ora quindi secondo me è giusto è giusto è un voto giusto perché come abbiamo fatto la premessa all'inizio stiamo considerando i pg al massimo del loro potenziale cosa che per Night Trasher si vede poco in giro ma il potenziale c'è c'è tutto sì 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 assolutamente neve miagola è vero Nicky l'hai sentita? grande primo uso contestualizzato dell'emoticon sono commosso ok vince cool non esiterò non esiterò eccoci perfetto perfetto stiamo andando bene screzzi pochi bravi bravi tutti bravi tutti allora una domanda interessante ct o ct 01 chiede la classifica vale anche per livelli più bassi tipo 4 stelle che iniziano da poco sono riuscito a doppiarlo con 4 stelle dipende perché stiamo parlando ad esempio in questo caso di un personaggio che richiede una certa abilità e anche molta conoscenza del personaggio perché per sfruttarlo al meglio bisogna un po' conoscerlo col fatto che è abbastanza versatile fa tante cose può essere utile anche come 4 stelle però ci sono diciamo che finché usi 4 stelle stai facendo più o meno 8 4 8 5 e ci sono quei 10 personaggi che te lo fanno fare a occhi chiusi quindi non ti conviene secondo me investirci investirci troppo ecco in questo senso esatto sono d'accordo se parliamo invece di roster sviluppato vuoi la chicca è sicuramente una chicca allora andiamo avanti che siamo c'è ora la variante sì sì no l'ultima cosa c'è questa variante ora è uscita 7 dove tu puoi stare in quel capitolo particolare solo gli eroi e solo il talento e c'è un un mefisto ci sono pochissimi personaggi che possono e lui è uno di questi perché il talento è immune all'inceneri no dico andiamo un attimino anche più spediti perché siamo un'ora e 54 di live ci mancano ancora tutto sto popò di pg poi vabbè possiamo stare qua anche fino a domani frega niente però allora ci facciamo prendere la mano io lo dico subito stealth per me non è un must have ma è un top e non mi dilungherò troppo doc sì sono d'accordo chi mi conosce lo sa ho una innata antipatia per questo personaggio non so perché proprio mi sta mi sta antipatico ma è una cosa personale un personaggio che ha danno utilità spegne l'inrestabilità come pochi veramente forte cioè è molto veloce a chiudere gli scontri eh raga mena come un fabbro ha lentezza facilissima è figo è proprio figo secondo me è figo molto forte è buono è buono molto semplice ci si faceva la cosa boss in guerra prima dei vari globali esatto vedete vedete qua alcuni dicono come falcon no perché perché a differenza di falcon stealth cantera bene una due cose fa molti danni e cantera bene due cose e poi ha un drawback non da poco che vabbè è il drawback di tutti i ragni che è quello di avere una salute diciamo sotto la media una resistenza anche al blocco sotto la media falcon è più equilibrato dal punto di vista del danno è più resistente ma falcon spegne tutto che spegne sia le cose che spegne stealth e almeno dieci altre quindi per quanto riguarda per questo falcon secondo me è più alto di stealth da questo punto di vista ne approfitto un attimo ciao pandino ti saluto così sei felice grande aspettiamo il sondaggio per ora siamo sul ok siamo proprio sulla quasi un'animità del top tra l'altro una cosa che non gli perdonerò mai a stealth per cui anche io in realtà ho una discreta antipatia è che quando è uscito in tempo qualche mese ha praticamente sostituito quello che era uno dei miei personaggi preferiti di sempre in questo gioco che è spider-man stark ed è una cosa che mi sta sulle balle perché secondo me stark c'è ancora qualcosa di migliore però il fatto che lentezza sia un debuff molto più in meta ha fatto sì che stealth fosse rangato praticamente sopra stark da tutti per me si equivalgono l'ho sempre detto non mi piace chi considera c'è il discorso che stealth è superiore non sono d'accordo infatti e stark non c'è 6 stelle ricordiamolo se no ciao sono leggermente diverse fanno entrambi ottimo danno però hanno delle utilità non sono paragonabili secondo me cioè non si può dire che uno sia molto più forte dell'altro mi approfitto un attimo salvo chiede sul posto di parlare per gente quasi in game in sostanza chiede se bisogna considerare anche il prestigio noi non lo stiamo considerando in questo discorso il prestigio ovviamente lo sapete il prestigio è una cosa che purtroppo in questo gioco serve ogni personaggio ha il suo prestigio ovviamente avere un personaggio che sia forte e anche prestigioso è un vantaggio però non lo vogliamo considerare in questo caso quella poi è una decisione che dovete fare voi dati alla mano vedete il vostro roster e decidiate di conseguenza grazie Gianluca esatto non può essere ad esempio se facessimo prendersi in considerazione il prestigio Thor Ragnar ecco sarebbe esatto no no il prestigio raga no qua parliamo di utilità in game di effettivo utilizzo allora qua Mauro dice per favore dite se servono doppi scusate se a volte ci dimentichiamo di dire se i PG servono o meno doppi per quanto riguarda Spider-Man Stealth no non serve doppio fa più danno perché incrementa l'efficacia delle furie ma le utilità e tutto quello che fa lo fa anche da singolo allora ha vinto il sondaggio Stark incredibilmente tra i ragni è stato fatto un sondaggio tra i ragni tra Stark e Stealth e ha vinto Stark ha vinto Stark sono perso quindi vabbè comunque Stark ha ancora ancora il cuore della community va diciamo così sono contento allora io qua ci spenderei dai 10 ai 15 secondi non so se sei d'accordo questo lo prendo e lo metto qua e poi ne parliamo vai doc immagino sia Fury io ho un po' ah sì dovresti vederlo ora no è semplicemente io ce l'ho un po' in ritardo tutto qua però sì è Fury assolutamente sì cesso a pedali se non cessina della moneta eh no è un cesso motorizzato dai motorizzato è un cesso ibrido no assolutamente Fury è una bomba Fury è sbroccato raga è proprio sbroccato è proprio una bomba ha una quantità di utilità che se ci mettessimo a elencarle tutte faremo notte synergie ma tutto lo ha tutto di me veramente tutto veramente cioè Fury è proprio quel PG è il PG che nella mia testa mi sono figurato quando ho pensato alla categoria must have perché ho detto mamma mia quante quante bestemmi avrei tirato fino adesso se non avesse avuto Fury ai tempi di da esplorazione a to sei in avanti quante bestemmi in più quante morti in più in war avrei lasciato quando c'è stato un periodo che lo portavo in attacco cioè già un PG che ha due vite è una cosa che non ha senso e che quando ha la seconda vita è più forte di prima e che counter ha una marea di robe che ha uno dei danni più alti del gioco fino adesso è ancora il mio vincitore della speedrun in reame ha battuto gli R3 ha battuto gente con i suicidi cioè veramente siamo proprio su un altro livello con Fury no ragazzi doppio 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 raga da singolo non va in seconda vita da singolo muore e quindi tutto quello che ha di plus in seconda vita non ce l'hai esatto tra l'altro raga la cosa fighissima che Fury è uno di quei pochi PG che si serve doppio ma averlo abilità 1 o abilità 200 praticamente è uguale quindi è il PG perfetto se avete la gemma bam gli date la gemma e avete tutto siete a posto fine e vi anticipo infatti non mi ricordo prima lo stavo dicendo forse mi sono interrotto non ricordo perché vi anticipo che il prossimo posto quasi sicuramente sul mio canale telegram sarà proprio una velocissima guida ai risvelli quindi farò proprio un bellissimo posto lungo in cui anziché dilungarmi magari a parlare più di tante le abilità vi farò una sorta di leggenda proprio per rispondere a tutte queste vostre domande quindi farò una leggenda da 1 a 5 quanto cambia il risveglio per ogni personaggio lista di tutti i personaggi del gioco e vi indicherò ovviamente secondo la mia esperienza quanto impatta il risveglio per ogni personaggio quindi mi raccomando esatto chi non segue il doc sul suo canale telegram lo segua doc postalo pure ancora se vuoi mi raccomando perché comunque i post del doc sono una bibbia e se avete tempo di mettervi lì e soprattutto anche li potete recuperare nel tempo vi serve un'informazione andate cercate con gli hashtag trovate qualsiasi cosa quindi seguite il doc perché vi salva la vita allora qua ti chiedono se stream in realtà il doc stream meno male è quasi solo con me però solo con te solo con te solo con me quindi comunque ve lo porterò ve lo porterò più spesso ovviamente dobbiamo matcharci un po' con gli orari ma quando posso portarlo raga io glielo chiedo sempre lui è sempre benvenuto basta che bussa allora grazie per i complimenti ragazzi grazie a tutti per i complimenti sono contento qui c'è un bel pg che è stato spaisato è stato spaisato nell'ultimo periodo un pg che a me fa una simpatia folle veramente mi piace tanto che però ho ancora riscontrato essere uno di quei pg bello tutto ma all'atto pratico un po' me ovvero massacre o massacre che dir si voglia cosa ne pensi doc questo è difficile perché dovessi votare col cuore per me è la definizione di cool esatto è veramente figo le sue utilità più o meno condensate in un mega danno ce le ha però è che vederlo ora non so vederlo rispetto a quelli che abbiamo già messo forse a livello di utilità è un gradino sotto beh oddio però non lo so se lo paragoniamo a nagwempul ci siamo eh però diciamo il massacre alla fine si usa si mette tanti debuff quindi ad esempio può fare dissing oppure con disperazione può bloccare la guarigione questo si però diciamo il fulcro di massacre è fare tanti danni e applicare tanti debuff certo tanti debuff quindi si poi si ha un disorientare che dimezza la precisabilità però non è che lo usi per quello no no certo non ha non ha sostenibilità non ha immunità non ha diciamo ecco pecca un po' di utilità io penso che vorrei ma non posso a questo punto con queste premesse però vediamo cosa ne pensa cosa ne pensa al popolo io voto intanto voto non dico niente per non allora ma anche io posso votare ma anche io posso votare ma io mi raga io mi sono sempre tirato fuori non ho mai votato pensa 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 come no 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 non ho mai votato ok allora lo sto votando anch'io ora ora siete fregati chiedono in chat chiedono per avvoltoio è un po' presto ragazzi ancora l'ho provato ce l'ho 6 stelle ho visto qualche video sono un po' deluso ma è presto ancora ho visto bene con le sinergie giuste è ottimo senza sinergie secondo me ancora pecca le utilità ci sono ci sono sempre state e le hanno migliorate pecca un po' di danno per il danno quindi vedremo ora sì io intanto che finisce il sondaggio vabbè in realtà il sondaggio è finito e ha vinto il vorrei ma non posso quindi siamo abbastanza d'accordo vorrei fare un ragionamento velocissimo un po' visto che siamo in tanti qui magari questo messaggio passa da persona che riceve comunque tanti messaggi anche privati bla 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 vedo che tantissimi hanno la tendenza a pensare che il gioco sia 0-1 bianco-nero e soprattutto che le risposte siano immediate quando ci sono i buff ai pg e tipo il buff esce alle 19 del 3 maggio e alle 19.01 ci arriva il messaggio allora il buff allora è un top allora l'orango vorrei ricordarvi quanto tempo ci ha messo colosso a essere da pg che ah sì l'hanno buffato adesso vediamo a essere quello che è cioè raga ci vuole tempo la gente deve provare il pg in tanti contesti in tante modalità per un po' di tempo perché leggere la scheda ormai penso che sia chiaro a tutti che leggere la scheda di un pg non basti a capirne effettivamente il potenziale quindi veramente ve lo chiedo come onestà intellettuale dateci e datevi tempo per provare le cose e vedere come si posizionano all'interno del meta perché non le possiamo avere queste risposte instant cioè vi diremmo ah ok boh l'ho letto sembra figo io dico sempre così boh l'ho letto sembra figo perché non lo so raga veramente non lo so non è cattiveria solo la prova del tempo esatto 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 sono d'accordissimo quando esce un megafilm io che sono super appassionato io difficilmente dico capolavoro dopo che sono uscito dalla sala magari dico cazzo bomba però il capolavoro è quella cosa che richiede anche la variabile del tempo così come in questo caso il posizionamento o meno di un pg all'interno del del roster ok niente questa era una pippa mia che volevo volevo fare d'accordissimo vabbè qui non perdiamoci troppo tempo purtroppo fighissimo bello animazioni de merda che vanno sistemate ma bello però pg che secondo me veramente non fa niente mi da troppo fastidio ovvero moon night proprio un pg che mi da fastidio mi da proprio fastidio quanto non faccia niente mi da veramente fastidio no ma io è uno di quei personaggi scarsissimi ma che odio affrontare cioè anche se è facilissimo è lento madonna è lento quando ti lancia io faccio in ogni modo faccio come si dice cerco in tutti i modi di non farmi tirare quella speciale 1 che palle che palle ti pianta devi stare lì a schivare quattro colpi muori devi morire io piuttosto la prendo in faccia guarda non ho mai non ho mai voglia si se mi dicessero hanno cancellato moon night del gioco in giro a ballare l'odio ci muoio anche in accu ci muoio non lo so perché io l'odio l'odio mi da fastidio non lo sopporto ed è esteticamente bello però ed è una cosa che mi manda in cortocircuito ha le abilità che cambiano in base alla luna ma di che cazzo stiamo parlando ma si sono fatti un trip quando l'hanno l'hanno designato sto pg la luna cioè tu se devi affrontarlo devi affacciarti alla finestra ciao tommy grazie di cuore ciao tommy buonanotte tu per affrontare moon night devi affacciarti al balcone guardare la luna devi aprire l'app che ti dice che dice in che fase lunare sei è una cosa bellissima messa in chi il personaggio più scarso è proprio mamma mia no va nella monnezza no no per principio guarda veramente per principio mi da troppo fastidio e tra l'altro sicuramente lo bufferanno sicuramente lo bufferanno anche perché ci esce il film la serie la serie quindi arriverà arriverà raga affacciati alla finestra amore mio esatto cioè che magari capito tu ti dimentichi vai contro moon night quando è in fase evasione dici vabbè moon night quello ti evade ti sderena pure adesso ti stordisce per un quarto d'ora devi morire moon night devi morire cancellatelo se c'è qualche hacker che sta guardando entrate fate delete due punti apici moon night chiusi apici invio via poi quando ci sarà la serie se lo vogliono rimettere forte siamo tutti qua ad aspettare esatto esatto allora qua ci abbiamo secondo me la definizione di vorrei ma non posso però aspettiamo di fare un minimo di discussione ovvero l'occhio di falco della yakuza quanto è bello quanto è bello bello bellissimo veramente design spettacolare e ho letto io avendo letto la scheda di shan chi mi ha ricordato un po' questo ronin ma è anche un po' jubilee la mutante ma shan chi mi pare che abbiano fatto la cosa giusta cioè che hanno il problema di questi personaggi che hanno fanno tante cose spesso e che non ne fanno nessuna veramente bene esatto oppure quando la fanno devi sacrificare completamente il danno questo secondo me è uno dei problemi principali sia di ronin o di altri simili mentre mi sembra che shan chi poi lo vedremo comunque ancora è presto per dirlo ma mi sembra che l'abbiano un po' risolto ronin è un personaggio che io adoro esteticamente è fichissimo uno dei più belli proprio è in inglese mi pare si dica smooth proprio smooth si è fluido poi c'ha queste capriole poi è tipo ninja è fichissimo veramente bello ha delle abilità fighe per chi non lo sape secondo me è un personaggio molto più utile per player in progressione che però siano abbastanza bravi con i pollici perché ad esempio state facendo 8-5 non avete un immune per una strada avvelenamento una strada sentitamente eccetera entrate con ronin fate le due schivate giuste e vi togliete il debuff dovete ridurre la precisionabilità fa anche quello dovete mettere molti debuff fa anche quello è molto figo però sì però esatto non ha non ha il focus non ha il focus per far sì che lo scelgano anche player che sono magari un po' più avanti quindi per me è un vorrei ma non posso poi magari si merita il cool però cioè dai rispetto a una guempul o anche a un kimpin molto meno usato manca manca di solidità purtroppo manca un po' di solidità perché il potenziale è veramente figo da usare è fighissimo ripeto può ad esempio bloccare i colpi a proiettile viene sempre stordire Iron Man stordire Don esatto che è una cosa che hanno pochissimi pg è sempre figa può parare a zero in una fase può appunto inibire la precisionabilità oppure rimuovere un debuff può fare sanguinare attraverso il blocco fa tante belle cose però come si dice in inglese Jake of all trade master of none cioè in quel senso che fa tante belle piccole cose ma non è eh diciamo sì il termine il termine diciamo della lingua italiana più adatto sarebbe un pg mediocre cioè un pg che fa tante cose ma non eccelle niente mediocre proprio nel senso più puro e neutro sì 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 più puro senza accezione negativa ecco sì 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 allora il sondaggio ha vinto vorrei ma non posso secondo me è il suo posto sì 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 io sono abbastanza d'accordo allora qui abbiamo un altro pg che ha fatto spaccare le teste di tutti penso che sia il pg più inutilmente complicato di tutto il gioco però ai tempi quando era uscito era a me gasava parecchio e ci ho pensato più volte di rangarlo dopo averlo doppiato sei stelle ma alla fine non ho mai avuto il coraggio ed è taskmaster per me un degno compagno probabilmente di categoria di ronin taskmaster è attenzione secondo me come night crusher uno dei personaggi più sottovalutati vero vero ma perché è anche uno dei più difficili forse il più difficile molto molto difficile sicuramente nella top 5 forse nella top 5 dei pgp difficili da masterare del gioco ha bisogno con alcune sinergie rende molto di più crossbones occhio di falco senza perde un po' è un personaggio che può spegnere gli avversari ha dei traumi potentissimi diventa immune ai debuffs dopo averne subito un tot quindi può ritornare utilissimo in certi contesti usato bene può fare anche bei danni il problema sai cos'è che il termine secondo me è frustrante è un pg frustrante perché io ho provato ad usarlo a cercare di usarlo bene arriva sempre quel momento in cui ti scadono tutti i traumi cioè c'è sempre un punto in cui devi aspettare un po' di più devi far scaricare ti scadono tutti i traumi e ti viene un nervoso una roba c'è dici no vaffanculo mi dà fastidio se compreso quando è uscito se compreso il masterato era un ottimo personaggio ripetiamo sempre in un mondo in cui c'è falcon che non fa tutto quello che deve fare lui esatto non ha senso di esistere quindi per me è proprio vorrei ma non posso definizione vince vorrei ma non posso attenzione però con il 56% quindi non così schiacciante però sì secondo me assolutamente sono super d'accordo allora oh vabbè qui abbiamo il l'ex pg da prestigio per eccellenza non ha mai fatto niente niente un pg di un'inutilità spaventosa un pg di un'inutilità spaventosa io lo metto qui ancora prima di parlare l'odio 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 ma c'è qualcuno che fa meno danno coi colpi base di di Thor Ragnarok forse nessuno non credo in questa lista no forse Groot forse Groot ma con le furie secondo me fa più danno se la gioca con Magente Venom forse madonna veramente che pg scritto male proprio male 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 brutto ma veramente brutto proprio io l'odio ma poi poi ste movenze scimmiesche sono terrificanti cioè mamma mia che fastidio è stato è stato l'origine del mio odio per il prestigio poi nel tempo ho iniziato a odiare il prestigio per altri motivi perché creava di rispare tra chi certo certo però il vedere la gente rangare al 5 all'epoca ma era pieno tutti ce l'avevano tutti solo la profil immagine profilo tutti con Thor Ragnarok tutti aspetta che devo votare non merita di esistere devi morire Thor Ragnarok io ti odio vieni da un film di merda e sei bruttissimo da solo ragazzi senza a parte il risveglio che da degli sciocchi sono belli basta mette squaccio forse con uno speciale stordito e pensa che vi dico questa cosa faccio una confessione il guilty pleasure ai tempi quando capivo poco ed ero tipo l'unica persona al mondo che aveva Ela a rango 5 cosa per cui con cui ho fatto anche parecchie robe nel gioco c'è stato un momento in cui mi è passato nell'anticamera del cervello vi parlo di 5 stelle ancora ne avevo pochi eccetera eccetera avendo Ela e quindi quella storia del team asgardiano mi faceva sempre mi stuzzicava sempre io c'è stato un momento che ero lì per dare la generica 5 stelle a Thor Ragnarok e rangarlo perché lo volevo usare insieme ad Ela ad Angela a Hulk poi per fortuna non l'ho mai fatto mamma mia grazie al cielo madonna mamma mia quanto l'odio l'odio esatto bravo Sardok Thor Ragnarok è il panda di Barbascura è il panda che si deve estinguere esatto perfetto andiamo oltre andiamo oltre cosa ha vinto ha vinto non merita di esistere col 46% bello ragazzi vi faccio notare che è una cosa incredibile che cioè se voi pensate al Thor più forte nel gioco è ancora è ancora il classico raga che sto per fare ad abilità 200 5 stelle troppo bello che è un personaggio di 800 anni fa cioè se un Thor è uno dei personaggi più amati dell'MCU se una persona guarda un film e dice ora mi scarico questo gioco e voglio giocare con Thor c'è Thor Ragnarok bellissimo e poi vede quel cretino che si muove così che non fa nulla con questa specie di mazza che sembra tipo il mattarello per stendere la pasta della pizza prende il gioco un personaggio L taggato come L come se fosse invece alto 1,50 che non fa niente quella persona prende il gioco e lo elimina quindi è tipo è tipo controproducente per Kabam Thor Ragnarok è proprio una mossa idiota è il personaggio il Thor l'ultimo il più recente fa schifo basta non voglio basta c'è già sondaggio attivo per un PG che devo devo dire una cosa non l'ho mai avuto perché non ce l'ho tuttora 5 stelle l'ho trovato 6 stelle pochissimo tempo fa e ho detto ciao ne hanno sempre parlato tutti così bene fammelo un po' provare al momento ho i suicidi attivi e il 6 stelle R1 sto parlando di Hitmonkey 6 stelle R1 con i suicidi attivi mi ha mi ha stupito parecchio veramente fa dei danni ah soddisfacenti è veramente caruccio veramente caruccio l'avevo un po' snobbato però non l'avevo mai provato bene e devo dire che capisco perché c'ha uno zoccolo duro di fan così bello agguerrito io sono molto combattuto per la scimmia è un personaggio neanche io l'ho mai avuto io forse l'ho trovato da poco 5 stelle comunque non l'ho mai usato uno dei pochi personaggi che non l'ho mai usato non lo so secondo me sta in alto secondo me sta in alto a danni ci sia infatti il dubbio è solo tra top ovviamente c'ha il discorso del canter evasione anche che non è per niente da sottovalutare smaltisce debuff è un difensore molto rognoso ha i critici assicurati ha i critici assicurati con medio leggero medio fa una marea di danni da sanguinamento io sono combattuto vediamo il sondaggio cosa dice è forte raga è veramente forte Hitmonkey è molto forte molto forte sta vincendo top per un discreto discreto discreta lunghezza ha vinto top con il 58% secondo me si ci sta assolutamente è a livello di quelli che abbiamo messo nei top anche perché raga per i criteri che abbiamo usato oggi abbiamo messo blade tra i top quindi è decisamente più in meta Hitmonkey però veramente mi ha piacevolmente stupito e se lo doppiassi 6 stelle lo rangherei più che volentieri non mi piace esteticamente non mi piace di animazioni perché sti occhi gialli vitrei mi danno fastidio quando togli gli occhiali è un po' legnoso come movenze però però l'ho rivalutato l'ho veramente rivalutato allora vedova vedova origini ah ok no chiedeva un attimo giugas dice non vedo l'ultima categoria perché c'è il mio faccione davanti ah ok scusate no ma sono solo cesso a pedali no l'ultima categoria non è una categoria raga è un tanto dove ho posizionato i pg da smistare ah si si vai doc che abbiamo ora no perché dicono che non ti stavo facendo parlare ma non mi sembra ti ho interrotto no scusami no ci siamo un attimo sovrapposti niente però so che ci sono tanti che sono fan spacca un po' spacca la community perché secondo me quello che con lei è perché è un personaggio molto molto figo super dinamico mette tanti debuff quindi è un personaggio molto divertente da usare però secondo me ecco a me ricorda all'inizio mi ricordava Gwenpool però se l'andiamo a vedere qua lo so che è un'opinione impopolare perché è un personaggio molto amato da tanta gente però rispetto a una Gwenpool già ad esempio anche un Killmonger un Elsa non ha le stesse utilità cioè fa buoni danni da shock ma neanche eccezionali e riduce un po' la precisionabilità quando picchia se tu picchi nel momento giusto riduce di un buon 70% la precisionabilità di Gwenpool che però non è affidabilita qua c'è una osservazione di Paccia che dice grazie a Vedova sono riuscito a passare una pat di 8.6 su un palloso regrute quindi devi andare nei top non sarei mai passiato su quella pat ah beh me lo ricordo vabbè ma quello è uno scontro è uno scontro progettato da satana eh raga cioè quello che tu hai tu hai impiegato void mille colpi se non ricordo mai non ho capito non ho capito salvo per la prossima classifica forse conviene mettere i pg della classe da scegliere al posto di quegli altri presenti per accorciare tutta la classifica non ho capito non ho capito purtroppo non posso non posso cambiare qua ci sono sempre tutti quindi io per evitare di doverli cercare come ho fatto l'altra volta riga per riga li ho messi tutti qua ma non mi pare ci sia un un modo più più intelligente cioè nel senso i pg sono lì voi non non dovete guardare quelli obbiettivi in basso quelli non li possiamo cancellare da sotto esatto vedete ci sono tutti noi abbiamo messo che ho messo prima una categoria a parte quella bianca con tutti i talento no in realtà li posso fare guarda guarda ci ho pensato adesso posso fare questa cosa ditemi se preferite guarda io ho messo molto molto ritardo guarda facciamo così ok ditemi se preferite così se vi distrae meno il fatto di non vedere quelli che non c'entrano praticamente ah niente ok salvo aveva capito male niente basta che io sto fermo qua non non poi magari la devo restringere meglio però insomma l'idea è questa ovvio che se vado giù poi li vedete lo stesso chiaramente allora vedova origini sta finendo sondaggio per ora siamo sul cool che secondo me è giusto ripeto io sono un po' di secondo me è sopravvalutato cioè nel senso perché chi l'ama si innamora delle sue movenze dei mille di shock che mette è comunque uno dei pochi personaggi che ha un accesso così comodo allo shock si oltre ad uno però all'atto pratico queste grandi utilità io non ce le vedo quindi onestamente io non non la vedrei bene accanto a pg come appunto guampul night rush secondo me sono personaggi molto più che hanno più spaccettature sono più versati ha vinto cool però secondo me se la vedi di fianco a taskmaster e massacre forse si in realtà io la vedo per me è la massacre degli shock praticamente perché entrambi possono ridurre un po' la precisabilità ed entrambi piazzano mille un incendimento e uno shock non la si usa per nessun altro motivo splendere perché i nemici a shock sono pochissimi i muni a shock e perché a volte mettere shock serve tutto qua boh raga io mi prendo la licenza di ascoltare il doc che è anche un po' quello che penso io è di andare contro il popolo so che vi piace veramente è uno dei pg che piace di più alla community però a conti fatti secondo me è un vorrema non posso anche lei qui abbiamo il mio talpone il mio talpone raga talpa è devastante devastante io lo amo follemente è tosta decidere se è un must have o meno però quello che fa adesso lo fa con un'efficienza che pochi altri pg fanno secondo me quindi molto 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 tosta talpa è tosta normalmente avrei messo seconda categoria però per come stiamo facendo i criteri secondo me può merita perché un player ad esempio in progressione cioè aiuta tantissimo un player che sta facendo 8-5 così come viene portato in guerra a grado 1 in master esatto quindi 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 talpa potrebbe meritare cioè un personaggio che da solo ti risolve tutti i problemi legati ai debuff e tutti i problemi legati alle evasioni tutti i problemi legati all'evasione e fa comunque una sbrega di danni perché con gattritico garantito sanguinamenti a motore e poi raga una cosa fondamentale talpa si crea aperture da solo facendosi picchiare nel blocco ha accesso inarrestabile con costanza e con facilità cosa che hanno pochissimi pg ci puoi fare chi si ferma è perduto compagna cantante dissing lo prende quel nodo lo prende critici garantiti ce li ha coi suicidi perfetto difesa forte c'è fa anche il caffè raga fa veramente anche il caffè no e non serve doppio no non serve doppio secondo me non è un must have a livelli di Egon e Fury ma io lo metterei lì perché si merita di stare accanto a Falcon per dire ha la stessa ha lo stesso forte impatto in game secondo me lo merita per quel cioè forse come è fatto per Domino dovevamo fare una categoria in più mettevamo Egon e Fury e poi gli altri e poi gli altri sì perché secondo me il problema è proprio vederli accanto a loro due certo raga ovviamente io lo dico sempre poi ci sarà sempre perché c'è stato anche nella vecchia classifica ci sarà sempre qualcuno che prenderà solamente l'immagine al minuto all'ora tre tre ore della live e dirà eh ma questo noi siamo qui da due ore ventotto a decidere ad argomentare il perché questi pg secondo noi sono qui o qua quindi è ovvio che se prendete l'immagine fino a se stessa vi possono venire in mente mille dubbi mille cose se avete seguito come i tanti affezionati che ringraziamo la live fin dall'inizio sapete che Egon è lì per dei motivi Fury è lì per dei motivi e Falcon è lì per altri motivi quindi io mi sento di prendermi la libertà di mettere Talpa nema steve nonostante il sondaggio abbia detto top perché secondo me è veramente veramente una bomba e ti risolve una quantità di problemi assurda sì praticamente ripeto l'unico modo in cui potremmo uscire da questo impasto è creare un'altra categoria per Fiori per Fiori e Egon e poi mettere Falcon e Talpa che sono due pg assurdi veramente strautili tutto qua per il resto non ha niente da invidiare cioè banalmente nel quotidiano si usa molto più Talpa che Egon ad esempio quindi perché Talpa fa molte cose che fa Egon però le fa a combo zero esatto le fa subito poi ti serve cantare l'evasione ci metti un po' di più a chiudere ma sei tranquillo completamente vuoi chiudere in fretta fai due pesanti ti fai colpire fai una combo special 1 e muoiono raga cioè veramente io ce l'ho a rango 3 veramente devastante veramente devastante ok andiamo avanti manca poco manca poco abbiamo un pg che non ce l'ha proprio mai fatta non ce l'ha proprio mai fatta è un Talpa che non ci ha creduto ovvero la donnina scogliattolo peccato perché è veramente figlio a me piace le animazioni poi cazzo è uno scogliattolo gigante di tutta la gente il pg preferito di Ponzi che non credo sia più in live ma lancia gli scogliattoli in faccia alla gente c'è uno scogliattolo che fa il trick tipo guarda là pam ti schiaffeggia troppo bello è figa però purtroppo a parte che comunque è un bersangio che serve doppio l'abilità altissima quindi ovviamente uno non va a investire counter allevazione può smaltire debuff ma mette ovviamente mille sanguinamenti può fare esplosioni di danno cioè con i primi 15-20 colpi più lo speciale 2 può tagliare anche 150k di vita però all'atto pratico veramente molto raro usarla cioè si finisce per usarla solo nei path magari dove si deve mettere sanguinamente esatto è decisamente un vorrema non posso per quanto mi ricordo sì 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 non starei neanche a perderci troppo allora mancano 3 pg qua ci abbiamo da fare una grossa distinzione perché se lo consideriamo anche con una certa importanza dal punto di vista difensivo sappiamo che è stato ed è ancora un incubo per tantissimi però in attacco Korg è sempre stato un pg di una di una non mi viene il termine di una mediocrità disarmante proprio purtroppo sì anche se ho visto dei video non mi ricordo ora con quale sinergie comunque con un team apposito ed è una cosa che è sbalorditiva cioè fa veramente molti danni però appunto con un team completo quindi non è una cosa realistica dalla sua l'immunità allo shock uno dei sistemi di difesa migliori del gioco perché comunque se sbagli a giocare hai lo scudo esatto e hai lo scudo l'inarrestabile l'imbloccabile cioè sei sempre protetto però squarcia col pesante ma veramente ragazzi a parte questo nessuno lo ha mai rangato per attacco mai nella vita mai proprio non esiste per quanto mi riguarda è un cesso a pedali poi sì sì è un cesso a pedali sì sì ti salva perché ha l'immunità perché squarcia esatto grazie Marti per il follow dai dai cesso a pedali che ormai siamo quasi mezzanotte cesso a pedali poi dopo diamo una rivista veloce al tutto se dobbiamo fare delle ultime modifiche allora mancano vabbè Punisher è un PG che non è neanche quasi neanche da considerare non so come dire cioè un PG che hanno 5 stelle lo hanno in pochissimi Dario il nostro mitico Dario della Grip che a quest'ora probabilmente sarà sarà letto no sto scherzando ha punito un bellissimo esemplare di punitori classico rango 5 quindi onore al merito a lui però sì un personaggio molto basico un cesso a pedali ragazzi ed un fastidio porco quando pensi che muoia invece non muore devi aspettare che muoia cioè è una roba veramente che da un fastidio le speciali che quando è bello pompato te lo ricordi Doc il punitore Pat Mutante di Atto 6 te lo ricordi? penso di sì Atto 6 che missione che bocca il capitolo di Mordo c'è un punitore su Pat Mutanti che è un incubo un incubo cioè io mi ricordo ma c'è anche quello c'è anche quello su dissing c'è un patto specifico che tu devi mettere 3 debuff ti mettono un'ondata di freddo e ti riducono il super blocco quindi quello dopo un paio di speciali 1 ti massagga ti distrugge esatto la 1 con un po' di pratica si evade la 2 è un disastro mamma mia va bene per me comunque è un cesso pedali raga dai non vale neanche il sondaggio non vale neanche il sondaggio ok ultimo PG ultimo arrivato della classe talento se escludiamo Shang-Chi Doc tu volevi ti abbiamo lasciato la ciliegina finale volevi un attimo fare una ringa su questa campionessa io veramente l'ho studiata poco quindi direi probabilmente cazzate quindi lascio a te la parola si si è un personaggio che ripeto se la si vede così da lontano diciamo si fa sanguinare buoni danni va un attimo compreso perché comunque devi far matchare le sue cariche che devono arrivare a 10 e appena arrivano a 10 entro un secondo devi sparare una speciale di solito la 2 o la 3 usata così il ciclo è completo può fare anche 300 350 mila di danni in un solo ciclo a personaggi che sanguinano quindi già per questo livello di danni è molto buona molto aggressiva molto divertente la cosa buonissima che ha è il modo di gestire come tutti i talento quasi tutti i talento ha un modo di gestire i debuff nel suo caso ha questa immunità perenne cioè finché picchi il nemico anche sul blocco ogni volta che lo tocca mette 2 secondi di immunità ai debuff a qualsiasi debuff quindi usata bene tecnicamente può fare qualsiasi path qualsiasi personaggio che implica un debuff che sia una morning star che sia una torcia umana tecnicamente no avok perché quando purifichi ti fa esplodere che sia un rischio biologico che sia qualunque path di path delle debolezze eccetera perché finché picchi il nemico è immune ai debuff quindi una sorta di abilità alla namor diciamo tipo namor che finché attacca non prende danno lei finché attacca non prende i debuff già per solo per questa abilità secondo me merita abbastanza per adesso va padroneggiata ancora è presto per metterla scusa un attimo doc ti interrompo perché c'è una questione che voglio chiarire di francesco barilaro che è entrato probabilmente tardi ne abbiamo già parlato il motivo per cui egone nei must have è che la categoria must have è una categoria pensata esattamente per questo nel senso l'abbiamo già spiegato prima tu dici si deve si usa solo in abisso tra l'altro non è vero perché egon se ce l'hai ad abilità alta in esplorazione atto 6 e in atto 7 lo usi a voglia se lo usi e poi dici si dovrebbe usare sempre in realtà must have per come l'abbiamo intesa noi o meglio per come l'ho intesa io che ho stilato queste categorie sono quei pg che averceli o non averceli anche in un pool limitato di contenuti ma averceli o non averceli per determinate situazioni fa la differenza tra posso fare quel contenuto o non lo posso fare perché egon ha un potenziale talmente alto in alcuni contenuti che solo lui ti dà quella risultato quell'efficienza quindi è la definizione perfetta di must have perché se vuoi fare abisso al 100% e non hai egon o ci spendi 7 volte le unità o non lo fai idem per labirinto finché non è uscita anche ghiottino o comunque altri quindi secondo me è esattamente la categoria dove deve stare e tra l'altro sfatiamo questo mito che egon si usa solo per abisso e labirinto perché se hai un egon che si porta al 60-70% di combo ogni volta in uno scontro di atto 6 atto 7 dove i pg hanno 300-400k di vita fidati che al terzo scontro hai in mano un pg che distrugge tutto ed è quasi immortale quindi non è assolutamente vero che si usa solo per abisso chiudo qui e poi comunque lui dice ho fatto tutto senza egon e si fa solo abisso ragazzi questo solo abisso non è una cosa da poco cioè ci sono tantissimi player me compreso che hanno finito il gioco praticamente ma qui manca solo abisso giusto e abisso è quella cosa che ti permette di fare il salto poi definitivo e se non hai egon non lo fai punto fino a pochissimo tempo fa ho avuto 70-80 duali non l'ho mai trovato poi sfiga ha voluto che l'abbia trovato 5 stelle appena l'ho rangato ho doppiato il 6 stelle ma questa è un'altra storia ora posso pensare di fare abisso prima ero praticamente bloccato i miei compagni di alleanza e i master andavano avanti chi l'aveva già fatto abisso chi lo stava esplorando io l'unico scemo senza egon non poteva andare avanti quindi dire che serve anche se fosse vero e non è vero che serve solo per abisso non è una cosa da poco perché non è il labirinto che ormai si fa con 35 personaggi è comunque di fatto l'everest del gioco al momento è un evento importantissimo quindi di fatto lo rende un must have fosse anche solo per quello oppure è un personaggio che comunque oltre come dice Teo in atto 6 in atto 7 atto 7 che ancora non abbiamo visto niente esatto arriva ad atto 7 capitolo 4 poi vediamo in più tutti gli eventi particolari ci sono state raga le incursioni è ancora il pg più forte in assoluto probabilmente per le incursioni cioè incursioni che ora danno pietre 6 stelle che sono rarissime oppure ci sono state delle diverse boss rush diversi eventi molto complicati che ovevi 5 personaggi giusti oppure avevi Egon e tiravi dritto quindi comunque un personaggio veramente al top che per me è proprio la definizione esatto esatto dai piazziamo sta Jabari Panther che poi c'è un sondaggio spicy che chiuderà la live ovvero il pg vincitore per la chat il numero 1 per la chat Jabari le diamo tempo cioè dandole tempo il potenziale per essere un top ce l'ha io la metterai sì io per ora guarda non mi voglio sbianciare la metterei tra i cullo ok cullo con grandi margini di miglioramento ok raga questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto aspetta che se no mi viene l'autismo fammi sistemare un attimo questo voglio farvelo vedere bene nell'interezza ok questo è il risultato che abbiamo ottenuto dopo un'ora sì due ore e 41 di diretta io penso che con tutte le dovute remore tutti i dovuti ragionamenti e tutte le dovute considerazioni che si possono fare stiamo sempre parlando di classifiche tier list dove c'è il parere personale di tutti insomma bla 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 ormai sono anche stufo di dirle ste robe direi che abbiamo abbiamo tirato fuori qualcosa che è uno specchio abbastanza coerente di quello che è la classe talento al momento ecco sì 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 sono d'accordo tyke chiede egon va portato al 200 se lo vuoi usare nei contesti più più piccoli meglio sì decisamente in contesti lunghissimi tipo appunto labirinto abisso la differenza di qualche rianima esatto stai di più a pomparlo nei primi due tre scontri ma non fa molto differenza allora la chat comunque ha dimostrato di avere un buon gusto per quanto mi riguarda il personaggio che ha vinto questa diretta che secondo la chat è il talento più forte del gioco è Nick Fury e io mi trovo d'accordo sì praticamente in giro l'ho votato in giro tra l'altro quindi sì per quanto Egon in potenza al massimo potenziale sia però ovviamente uno dei tre personaggi più forti del gioco Fury all'atto radio nel quotidiano eccetera è un personaggio che prende tutti dovrebbero avere è troppo comodo per questo mi ricordo chi ha vinto il sondaggio mutante non l'abbiamo fatto totale non l'abbiamo fatto allora voglio l'unica modifica che mi sento di fare prendo per i capelli il commento di da 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 dov'è dov'è c'era stato un commento poco tempo fa vabbè su soldato che visto vedendo nell'interezza quello che abbiamo partorito non mi sento di lasciare soldato nei cestini della monnezza e quindi io soldato lo metto nei cessi a pedali per quanto possa cambiare ma c'è abbiamo Korg Pantera Civil War Agente Venom soldato dai raga non è da meno non è da meno no vabbè anche perché comunque una sinergia esatto comunque ha un modo per poter essere sfruttato se lo si vuole sfruttare ecco vediamola così e Frax chiedeva secondo me la classe talento ecco questo l'avevamo detto prima dopo i vari buff reward eccetera secondo noi non è più la classe peggiore secondo il sondaggio lo ha vinto dicendo lo ha vinto la risposta che diceva non è la classe peggiore bene dai raga diciamo che due ore e quarantatré di live sono sono un tot io ringrazio innanzitutto il doc perché al solito è sempre un ospite impeccabile niente da dire assolutamente penso spero anche di aver sollevato delle cioè alla fine se uno si guarda questa live praticamente è come se si fosse guardato guide guide perché abbiamo parlato di tutti i pg anche alcuni anche nel dettaglio abbiamo detto dove sono buoni dove non sono buoni quindi c'è penso che sia un contenuto abbastanza importante ringrazio tutti i follower che siete stati tantissimi sia chi era connesso sia chi ha arrivato nuovo quindi ha messo il follow ed ha seguito la live tutti quelli che hanno o rinnovato o fatto per la prima volta l'abbonamento con amazon prime grazie mille per tutto il supporto che che mi date vi ricordo al solito carrellata di tutti i social e soprattutto andate anche a seguire il doc perché se avete la pazienza e l'onestà intellettuale di mettervi lì con calma e leggere un breakdown su qualsiasi cosa perché l'ha fatto praticamente su qualsiasi cosa fatto come dio comanda prendetevi del tempo e andate a leggere perché vi darà delle panoramiche veramente veramente fatte bene grazie guarda ti hanno fatto il sondaggio apposta per te e io sono d'accordo eh lo so lo so lo so no ma sarò sincero ho votato ma niente vabbè certo con volge il gioco no 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 è assolutamente assolutamente ho votato ma niente bene grazie a tutti ragazzi oh vi ricordo faccio l'ultimo l'ultimo convenevolo vi ricordo che mercoledì ci vediamo ancora per l'evento mensile probabilmente sarò da solo perché vabbè è una palla però almeno lo facciamo insieme così ci divertiamo un po' poi appena uscirà 8 7.2 ci troviamo ancora in live per 8 7.2 la settimana prossima come dico me ormai da da questo format live per la classe scientifica vedremo chi ci sarà come ospite lo sapremo quando sarà il momento e e poi niente le solite live che spuntano ogni tanto seguiteci un po' dappertutto se vi va e ci vediamo presto una buona notte a tutti e un buona continuazione di settimana grazie ragazzi ciao belli buonanotte ciao ciao ciao